Bene Aggiungo direttamente gli stronzi all'iniziativa Così Facciamo prima Forse noterete che ci sono delle piccole modifiche Alle vostre Icone Ho messo a tutti praticamente il punteggio dell'armatura Visibile nella barra rossa E tra l'altro Piccolo retcon nella stanza 8 Se salite un attimo A guardare i personaggi che avete lasciato indietro Avete anche salvato un elfa Chiamata Ebony Midnight Mi pare che è questa qua Ah ok Un'altra elfa stregona Grazie Abbiamo capito che ci vorrei aiutare a finire sto dungeon No in realtà era un personaggio che aveva creato bassa Di rimpiazzo Quindi Ritorniamo esattamente dal punto dove ci siamo interrotti Con la differenza che Aranel è già sul posto A una cosa Un'altra cosa che devo specificare Quando L'asa è stata attaccata dal getto acido Dalla spada Non mi ricordo Della racnoide nero Il mantello che indossava quello che le dà fortuna Si è danneggiato un po' Assieme a lei Ok Il mantello rischia di distruggersi facilmente Quindi attenzione Io per una questione di background Di ruolo Non farò dare il mantello a Aranel Ah ok L'asa non lo vorrebbe mai Mi fa piacere infatti Però Guarda Sono disposto a tutto Puoi riuscire da sto posto di merda Ok ma Quindi in teoria Però noi sappiamo se si può riparare quel mantello Aspetta Non muoviamoci subito Ah è nato l'avanzo Ma Poi sempre adesso Ovviamente non si può riparare Magico Ok No magari perché c'erano gli attrezzi da cucito e tutto Ho detto Chi lo sa Adesso che scegliamo Cosa che facciamo Ma andiamo avanti prima con l'e-tank Oppure vogliamo andare avanti prima Noi maghi E Sacerdoti In modo tale che poi Non ci possano prendere alle spalle Perché Se arriviamo alla fine del Del muolo In teoria Sì direi Tanti per primi Sì ragazzi Però Riguardiamoci che abbiamo Sì che ora lo sappiamo Quindi tecnicamente Non ci possono attaccare a sorpresa Ma loro ci potrebbero Attaccarvi a sorpresa Non li vediamo Perché arrivano dal buio Il demone Il paradigma è avanti Dietro i maghi E io per l'ultimo Quanto cosa è difficile Giocare solo al venti col cellulari Ragazzi vi chiedo scusa Se spammerò bestia Ma per spostarmi tra le macro Spesso si clicca Non ti preoccupare Sì no Non infatti E ricordatevi che c'è una pozione Dell'eroe sul pontile Da qualche parte Esatto Ok Ma non cadavere Quindi Ah e ricordatevi anche Che se state in cima alle scale Voi con le armi a distanza Le magie eccetera Non vedrete un cazzo E non potete entrare No ma infatti Voglio scendere Scusate ragazzi Quindi l'idea è quella Di tutti giù sul pontile O piazzo la tagliole Saliamo su Com'è che era la voce? No Tutti sul pontile Più o meno Ok Io voglio stare Il più avanti possibile Perché Tanto loro ci metteranno Circo un turno Prima di vederci E quindi Vogliamo stare Il più lontano possibile Quando arriveranno Vi libero direttamente Cioè Il più avanti possibile Quando arriveranno C'è ancora la barca Tra l'altro No la barca è andata via No la barca non c'è più Ignorate i ragni Che in teoria Non dovreste vederli Però per far prima Vi faccio vedere Tutta l'area E basta Ricordatevi che Il vostro La torcia È il vostro raggio di luce Qui Ma quindi Il boss arriva davvero Dal fondo del pontile Il boss è da qualche parte Sul soffitto al buio A 30 metri di distanza Oh mio dio Quindi Non lo sapete Comunque il piano Qual è quindi Quando Appena vediamo i ragni Aranel Spamma di Getto di fiamme Oppure volete Quello lancio anch'io Getto di fiamme Lancia due getti di fiamme Disponetevi Come preferite Sul pontile O Sulle scale Se volete rimanere Sulle scale Fatelo Ditemi quando avete fatto Quanto si può andare Quanto si vuole Aspetta che intanto Si Quanto si vuole Si Allora Tecnicamente Tecnicamente Avrebbe senso Visto che loro Dal mare Non possono arrivare Sì infatti Io mi voglio I tanki si mettono qua Dove c'è il 16 E noi ci mettiamo qua Praticamente Io considero Tipo che Vi mettete d'accordo E poi correte Per raggiungere La vostra posizione Esatto Esatto Perfetto Quindi adesso Tiratemi tutti Un test percezione Due Perché cacchio Non ho Ah no Ce l'ho la macro Ho usato quella tagliata Perfetto E vuoi tirarmi fuori La scheda del demon Più uno Quattro Aspetta Io c'ho il Porca puttana Ok Vediamo gli altri Che bell'inizio Ok Cinque Il mio è più uno Ok Ti ho fatto Chiunque abbia fatto Cinque o più Non è colto di sorpresa Ok Perché il più basso Che ho tirato È stato Quattro più uno Cinque Dopo che hai tirato Ben quattro Dieci Quattro tiri superiore A dieci Il raglione E i due capisciame Erano invisibili A parte per Beck Che ha fatto undici Quindi nessuno di voi Ha colto di sorpresa Immagino No Perfetto E ora tiratemi Iniziativa Uno per il demone Fantastico E uno per Reeves Fantastico Oh wow Vedi di non finire Terrorizzato Stavolta Ma anche il demone Terrorizza Quindi siamo Molto a posto È vero Perché Cazzo è vero Il demone è visibile Devo fare dei tiri Coraggio Oltre ai tiri Di iniziativa Facciamo che Ria faccia Quelli di iniziativa Ok No Scusami Ho premuto Ovviamente Il tasto sbagliato Facciamo Ma in caso Tieni conto Il primo tiro Che hai fatto Ok Ok Ora Io devo tirare Nel turn order Mi potresti inserire Voi per favore Che io non riesco Deve darci un attimo Il permesso penati Però Ah faccio io Aspetta Non posso cancellare Hai fatto Otto Ok Ora Test coraggio Perché vedono Il demone E sono terrorizzati Che paura Tra l'altro Il demone ha il pregio Per caso In qualcosa Non credo Non credo Ok Il boss ovviamente No Ah si magia Ah Interesting Ok Nessun problema Ah in realtà Il primo non c'era E ora Gli altri Li tiro Singolarmente Aspetta Ma il demone Ha due dadi In coraggio Che sto facendo Non lo so Otto Ok 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 Uno ha fallito Due hanno fallito Ok Due Dei ragni Sono effettivamente Terrorizzati Quelli piccolini Naturalmente Però aspetta In questo momento Noi non li vediamo Che sono al buio Giusto Sì Anche se sono lì E perché Non c'è abbastanza Sappiamo che ci sono Quelli lì Era quello che c'era più comodo Se arrivavano Perché li falciava Viara Nel subito Invece Rimasti indietro Reeves Ovviamente In questo momento Non ti dico niente Perché c'è il combattimento Ma sappi che dopo Inizierò a spogliarti E a leggere il tuo corpo E questo è il problema Comunque Ci vorrà almeno Una settimana E non credo Che neanche questo tempo Mi va benissimo Vabbè Torneremo in città Sì ma Aspettarò Un'intera settimana Con il Comeback Che ha la maledizione Amiche Mi hanno anche diventato Lo farò ogni giorno Un po' Mentre lui Dorme Farò torni Guardi diversi E me li leggerò E contere i giorni Comunque Non devo perdermi via Devo fare I cacchieri Se no potresti Lasciare questo personaggio A riposo Per una settimana E usare l'altro E poi fare il cambio di nuovo Eh ma Anche Reeves Dovrebbe rimanere A farsi studiare Ah È vero Io sto sprecando Tra l'altro Tiri Pensavo di aver fatto io Quel 10 Mi hai fatto star male Niente Non si sposta Ma Dio santo Cos'è che devi spostare? La sotto Tutte le macro E la barra Cioè per spostare la barra Ovviamente io devo cliccare Su Le macro E spostare la sinistra A destra Ah ho capito Capito Ok Arami Prima di agire Allora io in questo momento C'è in questo momento Arami non vede nulla Giusto? Assolutamente nulla Quindi posso Se un sacco di persone Vogliono scalare Poi io lancio Battaglia Sacra Se volete fare un turno Assolutamente Infatti Dopo il scontato Che scalo E Capito? Passo Ok Ah Tocca un ragno Che è paralizzato Tocca il demone Anche il demone Ha Battaglia Sacra Su di sé Se aspetta Sì Eh Comunque ogni caso Aspetta perché non c'è nessuno Battaglia Sacra Non funziona con le magie Giusto? No Soltanto con le armi Però è su tutte le creature Che il sacerdote Designa Cioè Un sacerdote stronzo Potrebbe dare Battaglia Sacra A tutti i nemici E non a voi Per insegnarmi una lezione Così imparate A giudicare male Il sacerdote Della luce Tocca ad Aranel Mi ritardo Tocca al Godzilla Ormai si chiama Quindi Allora Quanti bersagli ho? 5 Tirerò un 10 E Userò le vostre icone sotto Non ovviamente I cosi E 9-10 E il demone 8 Back Yeah Vai Back C'è uno scudo Adesso Qualcuno si è preso Dello scudo Del nano Del mio vecchio nano No Ah no Sì sì Ce l'avevo lo scudo Perché mi avevi detto Tu Che lo potevo Bucciare per terra Ti ricordi? Tu mi avevo detto Non lo prendo Ma tu mi hai detto Ma tienilo Che poi puoi buttarlo Per terra In casa Anche ora È scesa con lo scudo Tutti Ce l'abbiamo Anche se Allora io non ce l'ho Perché ho le mani occupate Non penso di poter evitare Granché Ok È soltanto un 4 Ok Vuol dire che se fallisco questo tiro Faccio una figura di merda Sì E infatti Faccio una figura di merda Non hai più Non più Non ho più il più uno Ah merda Da questo tra l'altro 5 danni da acido Resta ancora in piedi però Se andavi a 0 Era un altro danno Però ti davo altri Modificatori negativi Quindi occhio Da ma donna E poi Da dove tavolo Ma preso Però è incredibile E poi senti Totototototご Che si avvicina Ma non può ancora avvicinarsi E abbastanza Ad entrare nelle ragni di luce Bec tocca te Eh Costo battaglia sacra Non si muove questo ragnone Verso noi Si muove ma è a 30 metri di distanza Ah Porca puttana Battaglia sacra Che dora un di 6 più movive Sette turni Wow più alla fine quindi durano più di sette turni ah ricordo se qualcuno vuole usare la sua azione adesso che gli altri ragni non possono colpirvi a distanza perché sono troppo distanti c'è sempre quella pozione dell'eroe che potreste afferrare ah è vero dove si troverebbe esattamente nella mappa questa pozione dell'eroe da qualche parte abbastanza vicino a voi per muovervi e prenderla con un'azione beh tecnicamente dovreste prenderla voi ragazzi perché e dovrebbe prenderla uno dei due che può trasformarsi in un drago la prendo io? la posso prendere io? in realtà entrambi i loro animali sono più o meno alla stessa salute il rinoceronte è a 9 e il drago è a 7 solo che io vado da 18 capito? anche lui perché adesso non ti ammai io ho la trasformazione in orso chi fa più attacchi è uguale ah però io faccio due attacchi di 6 più 3 però Beck ha già usato la sua azione esatto quindi questo turno non posso fare niente in ogni caso quindi si è che tu hai da tu hai le magie quindi in realtà avresti la sua magia ma io ho anche l'attacco a distanza però intendo dire se io mi trasformo in orson posso fare due artigliate che fanno 2 di 6 più 4 quindi posso fare al massimo 22 anni personalmente la farei prendere Beck per un semplice motivo si riferisce in mana e in forma un elfica può lanciare anche radice della terra si poi sta per morire una volta non è stata utilissima ok una volta andrà la grande ma nel mio turno visto che praticamente poi si passa e dobbiamo aspettare ragni posso prendere la pozione e darla Beck? nel tuo turno puoi prendere la pozione dare la pozione è un'altra azione quindi non la posso fare a bere nemmeno a forza ok no ma adesso vediamo un attimo come va casomai mi sposto io me la prendo da solo vai allora lasciamo il mondo come io ritardo fino a quando mi si muovono si infatti aspettiamo un attimo che si muovono i ragni e quando si smossi decidiamo un attimo certo ok già lui li vedo aspetta che posso recuperare l'azione quindi se li vedo si e adesso tocca a Reeves che è l'ultimo nella coda e a tutti quelli che hanno ritardato l'azione il turno esatto si vede questo? si sono tutti al limite dei 10 metri quindi sono ancora tecnicamente fuori portata vabbè Reeves spara una freccia per vedere cioè hai un'idea di dove si trovi perché hanno fatto rumore però 7 ah l'avresti colpito se fosse uno normale ma questi sono i capisciame con l'armatura niente allora beh io in teoria con l'arco e freccia dovrei farlo a lui lo vedo io perché è un raggio di luce no giusto? no tecnicamente è ancora fuori il raggio di luce si è un po' particolare volete faccio volare il demone fin là? non avrebbe molto senso no 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 il demone effettivamente può volare di 5 metri lo posso avvicinare fino a qua di 2 metri 2 metri 50 giusto quanto serve io recupero la mia azione recupero può anche 5 metri arrivare fino a qua allora ne vedo 3 se vi va vado io così ne dovresti vedere addirittura 4 no no questi sono bloccati dal terrore sono ancora ne vedo vabbè intanto ne vedo 3 che idea usare il demone volante come eri beh perfetto getto di fiamme su 3 verso ogni 3 che vedo perfetto allora 8 per colpire e presi allora 5 sul primo capo sciamo ucci 4 sul non mi ricordo quanto hanno di vita ragnetti mi sa 5 vabbè 4 sul secondo capo sciamo facciamo così in teoria me lo dovresti dire prima di ti dare i danni perché se no è troppo facile oh fatto 6 colpisco quello grosso no vabbè sono andati in ordine 3 sul piccolo infatti è il motivo che quindi ho fatto niente comunque fino adesso ok aramid se vuoi puoi sparare anche te adesso le pupa esatto le pupa il turno di più e poi tocca ancora a me il nuovo turno giusto sì perché tu sei il primo ad agire quindi adesso i due turni in pratica figo qual'è quello messo un po' male questo qui vado di percezione con l'arco e c'ho anche il più uno immaginate che ridere se il personaggio effettivamente nel gioco si mette a urlare ragazzi vado di percezione con l'arco e scocca una freccia e gli altri sono tipo che cazzo sto dicendo l'hai preso comunque tira il danno ok ha un di sì grazie un di sei o due di sei è due di sei più tre per il momento perché hai spezzare ma perché sei elfo in battaglia sacra mi passi una coppa del nonno per favore tanti danni ok questo è feritissimo se vuoi colpirlo ancora adesso toccare l'armin incido su di lui o potrò rompere il coglione all'altro rompere un getto di fiamme infatti perché tanto ho iniziativa più alta beh 9 lo prendo dai sì sì non hanno così tanta armatura sono poche le creature che non prenderesti con un 9 8 wow anche questo è messo parecchio male hanno la stessa salute adesso li hai equilibrate facendo quel danno perfetto adesso arriva anche l'altro ragnetto dentro la visuale quindi getto di fiamme ne puoi prendere anche di 4 ok questi non sono più terrorizzati è già così è più equilibrato rispetto all'altra volta il match magari con 30 euro 30-40 euro ce lo sistemano vediamo ok tocca al demone non aspetto ma eh vi lascio pure al buio sennò si va davanti eh sì infatti tocca a darone un getto di fiamme oh cazzo scusami un attimo non oddio abbassa sì allora scusate ci sono su tre bersaglie ok i due capisciame e prendi quello già ferito ok volevo prendere l'altro però va bene è quello ferito ok un attimo però torna indietro ce l'ho fatta oddio li hai colpiti tutti boh perfetto allora sempre in ordine la sinistra a destra vi dico i danni ragazzi vedete voi uno due è morto è morto è morto è il terzo è morto no aspetta il secondo era soltanto due allora è ancora vivo quattro due sì decisamente era un ragnetto con sei lo shottava mi levo un altro punto l'unica cosa che riesco a fare tranquillamente è scalare i punti wow questa affare è stronzo però colpisce di nuovo Beck col getto acido mi dispiace ok vai fa due e non mi prende non ti prende oddio oddio posso per favore eh sì mi sa che lo faccio adesso spreca tra virgolette sì sì inizio in senso non è arrivato di fronte a noi si muove di 15 metri con un movimento ma è arrivato sul porto non dovrebbe essere tipo sul soffitto sui muri o robe del genere è gigantesco cioè se vuoi te lo flippo va bene così così ci divertiamo oh sì così sembra davvero sul tetto ok ho ancora più gli altri abbiamo nel tuo momento infatti andiamo col daimora no beh i ragni girano lì con le zampe verso il muro a questo punto vabbè vai scherzato scusami allora quindi in teoria il puntile è libero giusto posso muovermi dove mi pare sul puntile sì sì e vado a prendere la pozione puoi anche accarezzare il suo pelo pelucioso se vuoi ma guarda eviterei anche è vero tu l'hai già sentito il pelo quando ti ha abbracciato per portarti in un bozzo ok avrei preferito non ricordarlo grazie comunque per avermi quindi ha un artiglio cioè una mano bloccata per tenere la torcia quindi può fare soltanto un artigliato e un morso oh shit eh sì perché se ne lasci cadere la torcia in acqua e si spegne ok io vorrei muovermi e prendere la pozione dell'eroe posso? no perché è il turno del demone adesso ah è vero che l'avevo ritardato scusa avevo guardato il turno quindi artigliata ok 9 wow provo a parare no colpito mi ha spiegato la parata 3 danni no 4 perché ho battaglia sacra battaglia sacra finalmente qualche danno e poi forso 7 provo a parare lo prendi in automatico no ha più parata ha la doppia parata ha doppia parata adesso lo sapete il primo attacco lo coglie un po' di sorpresa perché non si aspettava questa enorme cosa volante che lo attaccasse però il secondo vedi che è proprio velocissimo nei movimenti tira come una velocissima zampata e fa perdere un po' l'equilibrio in volo al demone si muove a scatti molto veloci per essere una creatura così gigantesca ricordo che dal manuale è alto circa 5 metri alto non largo alla faccia ok back to cave dov'è questa pozione dell'eroe tipo il più lontano possibile da questo mostro demoniaco di 5 metri ok la prende? la posso bere anche direttamente adesso? no ce l'hai in mano l'ho presa e posso finire il mio spostamento? no tocca a questo caposciame che farà finalmente è a portata quindi può attaccarmi oh attacca il demone la luce gli dà proprio fastidio del resto sono acnoide la luce gli dà fastidio fa 9 per colpire il demone quindi lo colpisce e il demone eh oddio potrei fare 11 no non puoi parare un attacco di sacco no non è uno scudo che parla è uno sputo acido non ho specificato perché è standard attaccano e poi gli spudono gli danno quel demone a rigenerazione ma pure questo qui c'è sputo acido scusate sì e il suo è lo sputo più forte di tutti e che va più lontano di tutti il loro ha portato a 10 metri il suo ha portato a 30 metri infatti vi ha sputato appena vi ha visti entrare come con Aranel comunque ti ho fatto soltanto 3 danni al demone li ho già segnati che non è un problema perché tanto il demone ogni suo turno rigenera è un mostro per me ma sì quanti rigenerano? 2 o 4? 2 2 a turno che non sono pochi comunque e ah giusto e poi si avvicina comunque vediamo sai cosa? ha sputato beh si è attaccato il demone esatto io uso ho deciso di usare questa regola arbitraria che se sputa su una persona poi ci va addosso se è libera quindi tecnicamente le indebolisce quindi avrebbe senso ok tocca questo stronzetto che finalmente entra nel raggio d'azione e tocca Reeves Reeves spara il coso grosso è vero Reeves è in diagonale non è in corpo a corpo Reeves colpisce Reeves fa danno Reeves fa 8 di danno Reeves è nel folibre hai contato anche battaglia sacra Reeves fa 9 di danno wow accusa pesantemente questo colpo vedi che la sua forma enorme pelosa e velocissima inizia ad agitarsi tu cadarmi mi trasformi in lock steady posso già fare qualcosa o no purtroppo no consuma la tua azione potresti pensare di prendere l'abilità che ti permette di avere un'azione extra appena ti trasformi come tua prossima abilità io appena a livello prendo l'abilità della spada l'abilità della spada è fighissima dicevo Aramil che una delle tue abilità da paladino che puoi prendere è trasformazione rapida mi pare si chiami metamorfosi rapida che se superi un test magia appena ti trasformi puoi agire subito di nuovo ah ok buono che è molto bello se passiamo questa cosa qui a livello quindi la prendo sicuro ok tocca al ragnetto ragnetto ha soltanto il demone a portata qua fa dieci per colpirlo altri tre danni al demone segnagli uno solo tanto si rigenera adesso eh no ah è vero adesso tocca al demone segnagli di nuovo perfetto si recupera due punti salute e ah ah no non mi duperevano scusa il demone attaccherebbe io attaccherei il capo sciame perché in ogni caso cioè far perdere la parata al boss non la stava niente perché comunque nessuno di voi può colpirlo con armi corpo a corpo beh in realtà c'è qui lui che ne beneficerebbe parecchio e alla prossima tanto può ritardare fino dopo il demone e il demone riattacca no ma intanto gli altri sono tutti a portata di getto di fiamme quindi sì tanto io mi sposto ora vabbè se volete fare getto di fiamme magari si facciamo getto di fiamme vabbè vado sui Godzilla partigliata e io mi posso spostare attaccare non riesco a parare il demone ha più un'agilità 5 6 wow 6 wow e poi morso su e che il demone lo spacca in due abbiamo capito che per questo dungeon serve un demone tutti col demone un demone per amico sì ragazzi ma davvero hai parato con 10 sì sì ti ho parato cioè sì ho parato scusa il primo livello 10-10 paro vinco io ok e questa è soltanto la prima delle quattro posti in cui dobbiamo andare Annel Annel si può muovere a fare getto di fiamme pochi di 5 sì però non ci sono molti posti dove puoi andare accanto a Riggs così sono in diagonale è sul soffritto giusto è vero è sul soffritto quindi può spostarsi dentro di anche qua accanto a Riggs così sono in diagonale non è una brutta idea ok state vicini vicini qui dentro di nessuno è colpa a corpo fisicamente 4 bersagli ok ce ne sono esattamente 4 esatto dai un bel 6 sul cattivone aspettate devo tornare indietro 6 ok ok si colpisci tutti questo è gigantesco quindi è un po' più facile allora 4 danni sulla merdina indietro ok dimmelo prima di tirare grazie sono andando in ordine io non vedo il tuo nord sono andando in ordine no intendo l'ordine che vuoi colpire i tizi ah sì l'altra merdina ok il capo sciame ora arriva il capo sciame non serve uno di vita lo ammazza e basta ok quanti diri ho fatto ragazzi scusate è rimasto soltanto un tiro per il boss 5 il suo pelo inizia a prendere fuoco è ridotto malissimo coperto di frecce artigliate morsi del demone praticamente c'è immaginatevi il demone volante che sta mordendo una zampa di questo ragno gigantesco appeso al soffitto e non riesce a scrollarselo di dos e adesso però tocca a lui quindi vediamo è nell'aria è nell'aria si sente odore di pelle di pollo bruciata hai presente l'odore che si sente quando friggi una zanzara con la racchetta elettrica o quando ti bruci i pelli del braccio esatto ok vediamo ho tre bersagli in corpo a corpo tiro un D6 5 6 è il demone per gli altri guardo l'ordine sotto quindi 1 o 2 sarà Aramed è anche 1 però sei trasformato in off steady quindi hai 9 di salute ok quindi il suo primo attacco è un morso ah il dato positivo è che qui le regole specificano che non attacca mai due volte la stessa persona meno che non ha soltanto una persona in corpo a corpo inoltre non mi può attaccare con l'acido giusto è solo l'attacco a distanza che ha l'acido sì grazie però potrebbe 1 shot 8 per il morso su Aramil devo parare quindi hai soltanto 2 di 10 perché sei in forma rinoceronte se puoi parare aspetta io ho il pareggio aspetta non credo non credo tu abbia il pregio in agilità ah no no scusate Aramil ha il pregio in coraggio mi pare sì sì ok il morso fa 2 di 8 danni 6 danni alla forma rinoceronte di Aramil 2 a 3 sì poi 1-2 sarà back demone il demone 7 se vuole può parare ma è l'ultimo attacco o non è un terzo attacco non lo sai demone parli se ha un terzo attacco allora non c'era neanche bisogno di parli di tirarli era il suo ultimo attacco ok sono vivo per miracolo io tocca back non so se bermi la pozione dell'eroe a questo punto attaccare questo coso perché se si sta facendo a pezzi a questo punto lo uccidiamo e basta sì perché tanto attaccalo perché tanto tra riso e poi più 3 danni se lo colpisci lo provo a colpire quindi direttamente tanto non può neanche più parare che l'ha attaccato il demone sì quindi mi basta superare l'armatura ti prego non farà più vedi che hai fatto bene a usare gli attacchi del demone hai fatto 6 sì hai davvero fatto 6 il suo punteggio armatura esattamente il punteggio che ti servirà per colpirlo il ragno il suo punteggio vai tirami il danno bastardo mi sa che cusco esatto mi hai fatto venire gli incubi non ho un oh sì ce l'ho una macro non ho con che cosa attaccarlo ho 2 più 5 con che arma scusa la spada arachnoide sti cazzi tirami anche un d6 ok no non vedo più gli uniti 6 perfetto quindi hai fatto 2 più 3 5 danni 5 è ancora in piedi orca vacca ok tocca ragnetto che ma scusa ma se è giusto ok ragnetto può sputare soltanto sul demone poi rives se tu vuoi attaccare il ragno che è lontano perché il demone subisce un'altra distanza il demone è molto dispiaciuto ti rigenera di più di quanto abbia subito lasciatemi il doppio attacco dell'uno ma io posso essermi anche spostato dopo aver attaccato sì perché è attaccato in corpo a corpo tocca a rives siamo sicuri voi te che rischiamo e tira quello piccolo ma si colpisci quello piccolo tanto dopo dopo c'è il doppio attacco dopo c'è anche il demone poi c'è anche poi tocca a me che c'è il doppio attacco io ma scusate se invece lo finiamo direttamente e ci dobbiamo il pensiero eh ma poi non posso attaccarlo vabbè va bene uguale attacco quello grande poi c'è tanto il demone prima di quello piccolo 11 no guarda la sua armatura è 12 quanto hai fatto 5 6 wow l'hai mandato a meno 4 6 l'hai ucciso eh sì c'è battaglia salta l'hai ucciso sul corpo oh oh rifugio ti boss crolla al suolo ma magari non c'era nessuno e crolla anche il pontile tirate tutti per salvezza vuoi che tiri un di venti se faccio uno no no lo sai come ha fatto due no l'ultima volta gli ho detto tira un di venti per vedere se crolla il palazzo ed è caduto perché ha fatto uno e noi eravamo sul tetto dell'edificio Aramel beh io sono in forma animale ma non penso di arrivare qui no eh no non ci arrivi infatti quindi mi trasformo in Aramel ok hai ancora il tuo arco in mano se vuoi sì posso già attaccarlo quindi sì perché deve tornare normale non consuma un'azione e puoi farlo quando vuoi 5 5 per colpirlo l'hai preso ok quindi battaglia sacra è sempre 2 di 6 più 3 6 aveva 1 di salute ok ora prima di fare qualsiasi cosa vedete il corpo del grande arachnoide nero sciogliersi probabilmente per l'acido che ha all'interno che ora non è più contenuto nelle ghiandole dopo la morte proprio si scioglie questo gigantesco corpo è incredibile da vedere però vedete che lascia scoperto il suo cuore nero è un cuore di grande arachnoide nero possiamo prenderlo prenderlo si rischia di avere dei danni d'acido può prendere il demon in caso se vuoi tirami su percezione intelligenza se vuoi tirami su percezione si cioè su intelligenza scusa volevo dire arrivo tra l'altro ricordo che Aranel adesso non ha più modificatori in percezione perché è stata colpita dall'acido e ha meno due in socialità in totale perché l'ha colpita in faccia meno male che ha già la maschera 9 ti sembra sicuro da prendere però non ha idea di che cosa potrebbe servire lo prendo comunque si lo segniamo sempre nell'equipaggiamento del mulo cioè mettendo tutto sul mulo anche la testa immagino ovviamente ah se non si è liquifatta si qui dice che la pelle si scioglie quindi si la testa rimane un po' scarnificata però rimane ok peccato che i capi sciamen li abbiate uccisi a distanza le loro spade sono meglio di quella che adesso becche immagina di poter ah perché hanno agito immagina di poter colpire una creatura e se la mandi a zero gli dai per sempre una modifica negativa in modificatori eh però per impugnarle dovremmo avere la resistenza all'acido no? si in effetti si quindi è meglio comunque ma più che altro di questa creatura non si può prendere anche il pungiglione? no non ha un pungiglione è all'acido perché questi non hanno un veleno no è la coda che dicevi che sembrava si la coda è una coda un po' a frusta corazzata adesso ingrandisco bene l'immagine così ve lo faccio vedere però non ha niente di particolare probabilmente è fatta di cheratina e ragazzi non c'era nemmeno un ragno rosso no no però voi vi ricordate gli altri colori che dovevamo trovare? rosso rosso no non c'erano quattro colori che dovevamo di quattro ragni erano i quattro i quattro Godzilla che ci sono ah ok tra l'altro guardate ha una cintura fatta di teschi umani che bello o elfici probabilmente ecco vedendo che quelli sono teschi umani si riesce a capire un pochettino meglio le proporzioni dell'essere questi sono cinque metri in altezza quindi sarà largo siano sei sette metri e l'avete ucciso e dopo infinite sagge prendete tutti due punti avventura uno per aver ucciso le grandi arachnoidi e uno per aver eliminato tutti gli arachnoidi del dungeon livello tanta roba non ce la avete altri dieci per aver ucciso quella statua da maledetta no era totalmente metamorfosi veloce si dice Luca metamorfosi non mi ricordo veloce mi chiedi si chiamano metamorfosi l'abilità ok perfetto perché tu adesso hai preso l'ultima volta hai preso un'abilità del spezzare esatto quindi adesso devi prenderne una del paladino che puoi scegliere tra una nuova metamorfosi o un'abilità di metamorfosi che esclusiva del paladino come appunto quella esatto le altre abilità del paladino sono metamorfosi completa che era quella che avevo preso io con Merlin che ti permette di usare le tue abilità del guerriero anche nella forma animale però sinceramente a te serve di trasformarti in fretta contro steppane quindi sarà più utile e poi c'è una bellissima che è ultima metamorfosi cioè quando vieni mandato a 0 o meno anche a meno 5 o peggio puoi trasformarti un'ultima volta se hai ancora il punto umana se superi un test è bellissimo l'ultima metamorfosi vieni colpito vai a meno 6 dovresti essere morto ma ti trasformi per combattere un'ultima volta e poi alla fine della magia muori è bellissimo e cosa succede se ti viene a curare un sacerdote nel frattempo? i cadaveri non possono essere curati ah quindi vieni considerato comunque come già morto ovviamente cureresti la forma animale ma quando finisce la magia finisce la magia quindi basta il pacciato basta l'ha preso spada stregata sì sì tanto la sua stregone elfa fulmine quindi le abilità sono diverse sì quello che prende velocità ma se devo consumare due volte il mana per fare solo oggetto di fiamma è perché sto prendendo le spada stregata che almeno è come se avessimo un combattente in più in corpo a corpo infatti spada stregata è sgrava perché ogni turno fa sempre un danno da di 10 alla fine beh però è un attacco in corpo a corpo che tutti possono provare può essere parato però può essere anche povere volante robe del genere quindi può colpire anche nemici a distanza e tutto lo posso spostare da un bersaglio all'altro c'è soltanto un problema non c'è più la barca che avrebbe dovuto portarvi al dungeon successivo quindi compagnia del pugno chiuso che cosa volete fare va indietro e vogliamo tampo interno ok state fermi si ritorna che abbiamo il mulo troppo carico di roba ok ah sono anche i vecchi pc oh mio dio però mi è venuto il dubbio se noi ce ne andiamo da questo coso si ripopola non si ripopola perché avete ucciso il capo del dungeon oh grazie al cielo perché sennò doveva rifarci di nuovo tutto il bar altrimenti sarebbe impossibile perché non possiamo andare in altri posti direttamente a piedi si potete ah ok no perché pensavo che la barca fosse l'unico modo per arrivarci ah giusto dimenticavo l'altra volta l'ASA aveva cercato informazioni sulle chiavi magiche mi ero dimenticato che c'era anche ecco c'era anche un'altra informazione che avrei dovuto dirvi nel libro è presente questa scritta legata alle chiavi torre della casata della candida rugiada torre della casata e la candida rugiada sì ah commetto non le dice niente nuovo token per per il sacerdote ho messo visto beh prima di andare posso fare un test per vedere il cadavere del tizio a cui ho preso la pozione dell'eroe se è qualcuno più importante se ha qualche documento è un altro degli avventuristi avventurieri di nasofino ah ok però non è nasofino no un umano divorato dagli acnoid in specifica quindi è praticamente irriconoscibile è stato ucciso mentre cercava di bere la pozione ma l'ha fatto in tempo era bello grosso comunque questo gruppo di avventurieri di nasofino sì l'ha detto che era praticamente una una legione quindi noi adesso torniamo indietro con Ludwig no Ludwig prenderà la compagnia dei disadattati sociali e li porterà chissà dove ok però dice è bello vedervi ma ho altre questioni di cui occuparvi se avrete bisogno di me però nel caso non dovrete fare altro che chiede ovviamente aha odio la mia interpretazione di Ludwig non avrà nulla di cui cantare visto che non ho partecipato nicchia sì tecnicamente è ancora paralizzato ancora tre ore di paralisi Ludwig non l'ha più scritto sulla sulla chat non l'ha risposto no ma mi sa che non giocherà più dice che sono torni di notte belli pesanti oh se mai avrete bisogno di aiuto e passa a Reeves anzi se avrete bisogno di cercarmi proprio e passa a Reeves un foglietto che c'è scritto? è un 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 con una notazione che dice che si trova a circa tre ore da questa biblioteca all'incirca del centro della foresta ok grazie ex socio tra l'altro vi ricordo che avete recuperato una statuetta del sommo grifone il legno e appunto avete questa dritta sulla prossima chiave che si trova nella torre dei candida rugiada che appunto sono tutte cose che potete chiedere agli elfi tipo fiscando il fischietto come dire o incontrandoli nella foresta io mi mi faccio tornare alla chiave da Ludwig che è una volta vicino a un campo boschivo si chiamano ci sono gli incontri casuali sì ma tra l'altro c'è scritto che se andate a cercare gli elfi li trovate vi trovano loro automaticamente dopo il primo tiro esplorazione quindi se uscite di qui con l'intento di incontrare gli elfi dopo il primo tiro esplorazione li trovate ma si è sicuro di volerci fare il viaggio di ritorno così se usiamo invece il fischietto di legno rosso e ci facciamo accompagnare a casa gli elfi non funziona così il fischietto serve soltanto per ricevere rifornimenti abbiamo il demone comunque sì abbiamo il demone comunque sì i rifornimenti sarebbero anche pozioni per caso no soltanto acqua frecce cibo ed eventualmente rinforzi ah è una cosa però visto che questo era di pomeriggio il viaggio di ritorno per il campo interno sarà di 6 ore quindi sarà notte ci fermiamo a riposare e partiamo domani mattina visto che forma è sicuro un bel riposo ristoratore sì sì all'interno di questo dungeon adesso è sicuro non c'è assolutamente nessun pericolo avete fatto a pezzi tutto quindi potete semplicemente tirarmi di 4 per recuperare salute e mala anche per i vostri altri personaggi e visto che mi dispiace davvero tantissimo ma ho un disperato bisogno di andare in bagno al momento vi chiedo per favore di fare un po' di roleplay magari di parlarvi di roba tra i vostri personaggi ma nessun problema preoccupare fai pure doppio 2 intanto prima di far roleplay magari recuperiamo tutti i punti salute così poi quando arriva appenati li recuperiamo una seconda volta facendo finta di non averlo fatto l'ho specificato ma mi tengo le tuffie quindi mi sento bastardo punti salute per cos'era me lo sono perso cosa scusa punti salute per cos'era state facendo un riposo il ristoratore e comunque io ho le tuffie wireless quindi posso andare dove voglio e continuare a sentirle però c'è il microfono separato sia per la salute cosa che hai detto scusa il d4 sia per il mano che per la salute esatto quindi tirane direttamente due il primo lo recuperi col mano l'altro la salute tra l'altro ricordatevi se siete umani che recuperate uno in più e anche le forme animali recuperano niente come capo della compagnia essendo l'ultimo membro fondatore penso sia il mio dovere decidere il prossimo obiettivo ok potremmo anche decidere un pochettino che cosa fare adesso che arriveremo di nuovo al campo interno ma già che poi non gli ho fatto neanche un soldo con questa roba beh ma abbiamo tipo 20.000 roba da vendere ho l'elenco abbiamo 6 teste di troll 3 pelli di serpente strisciante una testa di serpente strisciante 2 teste di arachnoide 2 opali un bel po' d'oro e d'argento e anche di platino mi sa che adesso c'è più il volume da collezionista il cuore di arachnoide nero e la testa di arachnoide nero ragazzi siamo pieni di soldi sì infatti io tra l'altro lo dico come beck lo dico proprio in gioco io di tutti questi soldi sinceramente non sono particolarmente interessato perché sinceramente non ho troppi soldi da investire in armature o cose del genere perché sono un sacerdote forse mi potrei comprare una spada migliore ma in realtà stavo pensando di utilizzare il fatto che dobbiamo smerciare il volume da collezionista in una gilda di mercanti probabilmente visto che è comunque un prodotto che avevo fatto il test di intelligenza e tutto avevo visto che era un prodotto che se veniva venduto a una gilda di mercanti o comunque da collezionisti valeva tantissimo quindi stavo pensando di entrare a far parte di una gilda di mercanti magari anche soltanto di un piccolo luogo di smercio che comunque dovrebbe esserci qui vicino al posto dove far entrarne a far parte non c'è un grande vantaggio direi che va benissimo volevo soltanto informarvi quindi se volete smerciare roba o state cercando cose se io adesso entro a far parte della gilda dei mercanti saranno più facili da trovare cioè di sicuro le armi gli oggetti base quelli ce li abbiamo quasi assicurati soldi una parte li dovevano spendere per forza per rifarci pozioni in pergamene poi credo che chi ne ha più bisogno potrebbe essere Aramil per farsi un'armatura magari ma la costruiranno qua ci sarà un fabbro se ti usci la gilda dei mercanti magari possiamo farci dare qualcosa per posta in 20 giorni cosa erano di 20 giorni la gilda dei mercanti non smercia oggetti magici quindi non smercia pozioni pergamene o oggetti con qualche attributo particolare però forse ce li ha le armature è una magliatura di una cotta di maglia magari magari anche soltanto qualcosa che dà un più due però così può arrivare a 5 di armatura io vi ricordo che devo tornare al luogo dove avete seppellito il vostro amico nano vero Rives sarei molto curioso di sapere come sei stato in grado di evocare questo essere ho solo letto un po' di libri no scusate questo essere tra l'altro non lo uccidiamo prima che poi si disfi e vada in giro per il mondo a creare pandemonio o cose del genere sarebbe molto soleale nei suoi confronti ci ha servito benissimo è un servitore del dio della morte cioè è un demone no davvero non sono abbastanza messo nella lorma non credo il demone però di sicuro è un demone non porta di sicuro gioia e felicità ai bambini il demone ti guarda e ti attacca il demone guarda Rives e dice no no tranquillo e in elfico dice berrò il tuo sangue di notte a Beck se non stai zitto specifica io lo guardo io ti adoro finché adesso è ancora sotto i tuoi ordini tipo digli mettiti nell'angolino lontano da noi e lo bombardiamo di frecce ma intanto ci aiuterà a arrivare fino al campo interno poi a quel punto gli ordinerò di andare verso i monti ostili e quando finirà la cosa se ne andrà per i cavoli suoi da emone libero cioè tieni conto anche di questo fatto questo demone una volta che sarà libero potrà venire a uccidere anche noi perché potrà venire a uccidere noi beh può andare a uccidere qualsiasi persona perché non noi il mondo è grande io sarei curioso di sapere come hai avuto accesso a questi libri se possono essere consultati purtroppo purtroppo il libro non può essere consultato ero in un gruppo con una sacerdotezza della luce quando l'ho trovato e ha anche una sacerdotezza della luce cos'è questa blasfemia infatti ha molto insistito perché venisse consegnato in un monastero infatti ha ragione questa cosa ma la non l'hanno bruciato ma l'hanno nascosto e diciamo che ho fatto tempo a leggermelo bene bene ma è molto lontano si trova a la città quella là in cui eravamo che non mi ricordo o Depp vecchia città di Depp gesto no ma io riesco a vedere dopo oggi il corpo di Reeves no adesso no ha un bel guanto ha dei bel guanti sulle mani e si copre metà del guanto il cappuccio ha tirato giù a malapena riesce a vedere gli occhi e una cosa il platino non ce l'avete voi ce l'hanno loro ah è vero ce l'ha l'Aza e voi non lo sapete io voi avete voi avete 150 fiorini in totale dall'oro e dall'argento lei ha 150 fiorini di solo platino ma intanto come capo della compagnia direi che è meglio parlare con questi uomini e coraggiosi che ci hanno salvato e chiedere sono interessati a unirsi a noi dato che la compagnia rischia di rimanere sotto organico velocemente l'Aza vi dice che visto che momentaneamente giocherò ara che sarà orona sarebbe lieta di un'IFC ma in un momento ha delle affari importanti e se la vorrete trovare lei sarà ancora in città a fare degli spettacoli circensi quindi basterà semplicemente andare in città e chiedere di lei anche Boni dice che in caso avete bisogno di lei vi basterà chiamare gli elfi della foresta perché ha intenzione di restare un pochettino con loro e approfondire un pochettino di più la loro cultura Magnus vi dice subito che lui in una compagnia senza nani non entrerebbe mai e però finché i nostri obiettivi sono simili per liberare il regno dagli arachnoidi può in caso diventare un consulente esterno che venga a prestare aiuto a un mercenario no non si fa pagare ah ok persona gentile prenderei la mia parte per vito alloggio e magari per potenziare dato che non ho più un'arma al momento ma io faccio solo il mio dovere verso quei pauri nani che cercano la loro patria il fatto è che i mercenari vengono pagati esattamente in quel modo cioè con una divisione equa di quello che trovate ecco non serve neanche che sia equa lui basta il martellone dal fabbro cos'è che volevo dire c'era qualcosa che volevo dire non mi son dimenticato merda vabbè continuate magari mi torna in mente ah si ecco vi siete tolti una razione per il giorno no tolta anche finendo le frecce ah e poi penati ci puoi dire se quindi si può trovare un'armatura se si e non serve neanche essere agito dei mercanti è soltanto un tiro di dado però ah ok quindi c'è la possibilità di non trovarla comunque le armature sono cose personalizzate quindi per via della taglia quindi è possibile che non ne abbiano in ogni caso si ma poi in generale penso che forse non tutte le città abbiano un fabbro però c'è a campo interno cioè scusa a campo boschivo tutto quello che cercate è a campo boschivo a campo interno è soltanto una tappa che avete per riposarvi ma tutto il vendere le pozioni dovrete tornare a campo boschivo all'esterno della foresta allora si affina a campo boschivo il lato positivo è che se adesso partite domani è il giorno in cui il ranger parte per andare a campo boschivo e il giorno dopo torna a campo interno quindi se se arrivate potremmo andare con lui se andate lì entro oggi sarà una perfezione sì ok ho controllato oggi è il dodicesimo giorno gesto no io ho fatto sogni durante la notte uh è vero ah giusto intanto back tirami un di 20 anche tu ok ok no niente anche niente per te back e no niente per aranad il che è un po' strano perché proprio non hai sognato assolutamente niente ok no vabbè i tuoi sono sogni di trama quelli di back sono sogni per via della no no non avevo capito siccome hai detto tirami un di 20 anche tu pensavo lo dovessi tirare anch'io eh sì perché parlo strano sorry comunque adesso vi copio in collo nella mappa di viaggio se non volete se volete dirvi qualcos'altro scusate no mi ricordo solo il dragar dovrà stato seppellito campo interno o un po' boschivo fuori da campo boschivo quindi ok io dovrò andare poi oh guardatevi come eravate allegri ecco quindi Ludwig si è separato da voi e adesso proseguite bene è il di 12 qui ricordo chi farà il primo tiro esplorazione saranno 6 il demone è come dire lo tira a Nicola non cambia niente sì ma la più scena di 10 di 12 2 non fai tirare niente a me mai più 2 sono i troll sì sono i troll magari riusciamo a prendere abbastanza da prendere quella cazzo di taglia sono altri 6 troll aspetta un attimo ah già siete tutti cazzo di elfi ok non posso neanche darvi il meno 1 per far arrivare i 10 troll non si che 6 quanti troll l'avete ucciso finora 6 più altri 6 quindi 12 siamo in realtà un umano e un demone anche 18 e quindi ne mancherebbero altri 2 per la taglia totale e abbiamo anche ancora un sacco dici di esplorazione da fare quindi e stavate cercando gli elfi comunque o no sì ok quindi alla fine di questo incontro arriveranno gli elfi e io devo prendere i troll a cui ho cambiato il token perché mi dava fastidio il fatto che fossero così alti ok controllato da me un attimo che inserisco i dati e arrivo subito per esempio diremo l'iniziativa o no? sì sì infatti già ti vi ho infatti già ti vi ho sì infatti già ti vi ho sì ok sì ah tra l'altro questa mappa è da un metro ogni quadretto sì siamo tornati al buon vecchio metro è ironico come se siamo in realtà andati indietro con la scala perché dovremmo essere più lontani però le distanze sono molto più vicine adesso e iniziano a 5 metri da voi tra l'altro però ovviamente oh shit come solo a 5 metri solo a 5 metri sì ma non devi tirare un di 20 no è un di 10 perché la foresta è molto molto fissa è fissa ok raggiungo l'ultimo beh però noi avevamo davanti il demone incubato comunque sì ma cioè qua di fianco a Reeves in più o almeno ok però dovete anche farmi un tiro di percezione perché tecnicamente sono loro ad assaltarvi 9 ok io mi sono fatto l'amacco col pregio ma non la tiro mai ho fatto un 11 tira anche per il demone io ci ho fatto il demone e io tiro 2 5 10 2 ok credo che tutti ve ne siate accorti perché non vale perché qualcuno faccia meno di 2 anche perché già abbiamo tirato tutti ok quindi non vale neanche la pena tirare gli altri perfetto quindi sì vi accorgete che vi stanno per attaccare questi troll Aranel non è segnata la tua iniziativa eh ragazzi me lo dovete segnare voi quant'è? te lo dico subito 7 no 7 è test per te 6 6 6 ok perfetto ora tiro la mia iniziativa quanto hanno questi? hanno il pregio quindi allora 6 10 4 ritiro 7 5 9 ok allora abbiamo tirato tutti un po' basso iniziativa tecnicamente loro devono fare un test coraggio cazzo è vero per il demone sì che palle quel demone e ce l'hai fino a questo pomeriggio cioè si compare giusto quando arrivate al campo interno così nessuno si accorge di quanto tu sia un demonologo e non ti mettono sulla porca storia per i demonologi non fanno niente di male a parte evocare mandare per il mondo demoni esatto più evocano e liberano i demoni ok l'orina non è corretto adesso dovrebbe essere adesso si scopre che tutti i demoni del mondo sono stati creati dei demonologi e da sta però anche adesso hanno sobrato tutti? ah giusto che due coglioni allora il primo ah hanno due dadi in coraggio sono scemo vabbè gli ho avuto i tiro comunque si l'ha superato il secondo no hanno un solo dado ok allora anche il secondo l'ha superato il terzo no il quarto no il quinto no il sesto no no ok solo due l'hanno superato solo i primi due l'hanno superato fantastico quindi quello con il 10 e quello con il 9 ok che comunque vabbè siamo stati stupiti a non sistemarci nemmeno eh? eh sì perché comunque le schede le abbiamo copiancollate qui cosa? sì sì noi siamo stati stupiti a non sistemarci noi perché tecnicamente i paladini andavano avanti e noi stavamo indietro però vabbè uguale io col cavolo io col cavolo sto davanti stai dritto adesso sei davanti ok che è che mi ha spostato? che è che hai permesso di spostare il mio personaggio? soltanto tu e io che sono un master ok comunque quindi attacco sul demone sei no prendo ok ah già devo tirare il d4 perché questi hanno attacchi diversi tre dovrebbe essere un morso il combattimento no è un'artigliata quindi ok quindi l'artigliata fa d4 più 1 come la tua due danni al demone ok secondo attacco ah due attacchi tre danni al demone aggiuntivi poi tocca a lui ok può attaccare due persone 1-2 Aramel morso su Aramil Aramil questo troll trova a morderti con un nome in agilità Aramil Aramil Luca qualcuno mi sente sì tutti forse non sentiamo Luca ok oppure magari è andato no sì infatti non lo sentiamo perché comunque ha tirato ha tirato ok beh buono comunque no ma riesce a parare quindi sono 6 8 danni su Aramil vacca credo che vada a terra grazie sì l'ho buttato a terra pronto pronto vi sentite ciao sì che è successo quindi ti ho buttato a terra mi dispiace quant'è che hai fatto? ho fatto 8 danni ah da 0 quindi merda beh c'è sempre quella pozione dell'eroe sì infatti però se la uso non posso dare radici da terra no l'ho detto subito ok tocca all'altro troll che non può fare niente tocca a Aramil spada spada spregosa ah io mi sono preso comunque ah giusto divata dalla canaglia per figata comunque anche pulmine qua non ci stava male come non ce l'ho io pulmine per tre giri va su quello con iniziativa il secondo praticamente c'è questo quello che ha buttato a terra Aramil sì ok fa 10 magia quindi roll 10 più 1 per colpire e poi su intelligenza hai avuto un po' di culo perché comunque le statistiche che ti ho abbassato non intaccano troppo il tuo studio di combattimento invece becca che si è beccato almeno uno scusi ma vedo che hai fatto 7 io ho 8 di salute hanno hanno più uno in forza non ho una macro per un di 8 più uno perché ho davvero troppe macro perché in quanto master mi serve una macro per ogni dado e ce l'ho per una o per due dadi quindi soltanto del di 10 ho fatto quelle col più nel meno uno perché se no la barra diventava lunghissima 7 per colpire ok dio mio una possibilità su 100 però continuo a tirarli lo più 10 mi dispiace ok tocca al demone se vuoi puoi posizionarli in modo che possa attaccare entrambi questi tizi posso già farlo siamo nella mappa da uno ah è vero che scemo non siamo più nella cosa in diagonale quindi si li prendo entrambi intanto quello che ho davanti al demone artigliata 5 ok quello che hai davanti al demone può ancora parare 10 per parare nessuno di voi ha armi corpo a corpo io ho una spada stresante la spada ah si tutti fate cose che fanno male ok non ho che usano che hanno bisogno della pata qui l'arte attegliata sull'altro ok mi sono appena ricordato che ho lasciato la forma draconica di Beck da un'altra parte ti sei modificato la salute si si ok nel caso voglio usarla il demone ha recuperato 2 è vero nel suo turno andiamo nel recuperatore di salute quindi cosa fai? artigliata sull'altro per togliere la parata ok non ce l'ha già più la parata ha parato la spada stregata quindi lo colpisci ok lo colpisci si no ma attaccali pure perché tanto non penso che nessuno di noi farà l'attacco corpo a corpo a questo giro io al prossimo la spada stregata e il getto di fiamme 4 danni ok ricordatevi che anche loro hanno la rigenerazione quindi è sempre sullo stesso allora vado anche di morso ok l'hai preso 7 danni no 6 danni 6 danni si è ridotto molto male qua conviene concentrarsi su uno ucciderlo del tutto e poi andare avanti così perché questi sono tutti bloccati ok rils sono tutti terrorizzati è ancora il primo giro si ok wow ho battuto Aramil al primo giro mi sento male ok tocca ad Aramil che è a terra povero tocca a riso la rigenerazione Aramil magari magari un demonologo povero rigenerazione adoro i demonologi si ma per un mago sarebbe utile per me sì ma io ho modificato l'avventura iniziale dei reami di disoli a loro gli ho messo contro un guerriero demonologo con un punto mana per attivare l'abilità di rigenerazione che cavalcava una viverna da guerra gli ho quasi fatto il tpk li ho mandati vicinissimi alla morte non me la ricordavo sta skill di rigenerazione comunque aspetta mi guardo vado a rivedere le classi si chiama forza del dolore hanno un sacco di skill utili per i guerrieri cioè un paio anche quella del gasto del eroso che è buona per i guerrieri soffio della sofferenza con il più uno apposta di cosa della fonte legame con la fonte sono fatte apposta per i guerrieri la se hai due dadi a forza adesso tocca riso e dicevamo passo a dopo Beck però Beck mi sa che proverebbe a utilizzare radici della terra ecco ti capiamo a chi devo tirare io perché non sarebbe male se riuscisse a entrare quindi durata 5 turni influenza la prima volta quando giro riesco a farlo sarei addosso il di mano deve essere comodo eh sì perché ho fatto il pc 5 bersagli wow puoi prendere e ora vado il mio tiro su magia e cerco di colpire questi quadri questi quattro in fondo più questo qua che tutti quelli full vita no aspetta un attimo però no perché questo qua poi ci colpisce no però è in corpo a corpo col non so se prendere questi due perché se riesci a prenderli tutti con la freccia questo lo uccido questo è in one shot range è messo malissimo ok allora tutti tranne quello tutti tranne questo ok e vediamo speriamo di prenderli il più possibile porca vacca 5 oh boy allora inizia da questo qua in fondo no inizia da questo qua decido io se permette non lo passa ottimo grazie non lo passa non lo passa lui lo passa quindi aspetta meglio se mi segno perché ok 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 almeno due sono bloccati avevano il più una forza comunque quindi è buono eh sì ma infatti va che palle col due danni più uno sono riuscito a fare solo 5 e dopo aver tirato e tutto mi sposto ah è vero che qua i 5 metri bisogna riempituarsi un po' sì anch'io quindi no no quelli sono ancora bloccati terrore porca no è finito terrore ah lui il 4 è ancora bloccato e lui è bloccato master scusami però non specifico una cosa su spada stregata cosa? la spada stregata va in corpo a corpo con il bersaglio sì in 360 metri ma quindi la spada può attaccare ma non può essere attaccata assolutamente no la spada non ha salute non può essere attaccata che meraviglia il che però significa anche che non puoi bloccare un nemico con la spada eh sì questa cosa è un'ottima scusate ma poi Reeves ha attaccato? no infatti stavo per dire tocca a Madras fai fai che dite cioè rischiamo col nome a non attaccare no finisci lo finisci comunque sprechiamo un sacco di danni però vabbè dai proviamo no ma è meglio devi portarlo a meno 5 perché anche se lo porti tipo a meno 3 poi questi si rigenerano e ritornano in vita ah già hai danni più danno gli fai meglio eh sei danni? eh proprio sei danni? hai danni proprio sei non voglio rifare tutta la cosa di Cusco ti dico semplicemente che gli hai perforato non ha più un cuore ha un buco non ha più niente e va ok lo devi cadere a terra e morire in una pozza di sangue di sicuro non si rialza da quel colpo ok quello è bloccato e toccava lui quindi ok adesso tocca a lui è bloccato no no questo è il nuovo giro ah no ok il set no però lui non so se può arrivare non so qualcuno ah soltanto Aramel mi sa perché il demone il demone è fuori portata ma questo significa anche che potrebbe fare i 10 metri e fermarsi davanti a qualcuno non sono non sono abituato più a combattere ok tu sei troppo lontano non hanno lo spuacido sti qua no quindi devo scegliere tra Aramel Aramel perché? chi è che è troppo lontano? prende tu cioè Aramel a Reeves eccetera scusa infatti io sono interno no a me non arriva a me non arrivava lui no può arrivare proprio a te si arriva arriva diagonale si ma non ci arriva dire la diagonale vale questa mappa ah è vero avete ragione scusate ok ricominciamo il diagonale sono abituato a quello vecchio ricominciamo dall'inizio quindi uno due tre tre quattro ok facile di ricordare Reeves che tanto però non ti attaccava solo un corpo qua sì è una seccatura perché non tiro ma invece fuggi sono un cuglione ok tocca ad Aramel Aramel si sposta se vuoi passare a dopo il demone posso togliere la schivata a uno col mio d4 che è vero sì tanto poi mi sposto i 5 e me che faccio tutto due attacchi sì perché il demone ha tanti attacchi però ce n'è alcuni che sono deboli quindi una sparata quindi faccio sì allora prima l'artigliata deve togliere la parata a quello ancora attivo ok no no i miei poteri divini non aiutano quindi fammi un d4 più uno di danni cinque porca miseria poi se ho visto un gasato faccio anche la seconda artigliata ok così magari lei riesce a shottarlo l'hai preso due due danni non è ah ok scusa pensavo fosse il morso provo anche col morso o passo a questo qua no no finiamogli uno alla volta sì infatti vai dire vado anche col morso allora lo manchi sì lo manchi hanno la loro pelle gommosa quindi tan tan poi gli morde proprio una zona dura del braccio e proprio come con il ragno non riesce a danneggiarlo effettivamente adesso tocca adana nel suo vuole allora spada stregata su lui vai oddio vincita 3 non l'hai preso la spada stregata rimbalza sulla pelle coriacea di questo affare ok e poi hai comunque il tuo hai comunque la tua azione la spada stregata ha un turno a sé stante in pratica sì sì quindi puoi anche fare il giotto di fiamme se hai un'arma corpo a corpo potresti anche attaccarlo corpo a corpo e poi spustarti se preferisci su sì ma avete tanti bersagli comunque sì però se riesci a uccidermi questo poi rivers può attirarla con la balestra se no no ok vabbè se no vado io con la spada non c'è problema però intanto è giotto di fiamme su due bersagli uno solo è su intelligenza il numero di bersagli ok scusami no chi ha non lo so se no oramai l'ho tirato sti cazzi e vabbè su lui vai l'hai colpito danni 4 danni lo mandi a terra 6 danni no prima hai tirato non ve l'ho spiegato purtroppo non mi sposto tranquillo ok allora lo mandi a terra un po' di più di quanto era a terra prima ok è a terra ma l'ho ucciso o è a terra non c'è pozza di sangue è molto ferito e sta bruciando per inizi a metterci un token sempre per ricordarci che non è del tutto morto o sennò cancella tecnicamente non lo sappiamo esatto tecnicamente non lo sappiamo dovete ricordarvelo lui è bloccato eh mi posso muovere di 5 metri? si se muovete 1, 2, 3, 4, 5 ragazzi coraggiatemi se sbaglio perché il cellulare è un casino puoi muovere anche io un altro ok quindi arrivare da tutti esatto può mettersi qua scalpestando il suo compagno e può anche attaccare 4 quindi saranno due artigliate la prima su Riz la paro non serve ho fatto 1 serve 1 ok non la paro niente non sobra la tua CA la seconda artigliata sempre su Riz io non serve comunque parare ok ecco cosa succede visto che ho fatto questi diritti terribili glielo concedo praticamente corre verso di te sai che ho detto che calpesta il suo compagno caduto inciampa sul suo compagno caduto e cade a terra ti faccia dovrà usare un movimento per alzarsi in piedi è comunque in corpo a corpo scala il turno dopo di me che ti vengo a tirare su adesso ah merda se finisce quello a terra i morti non possono non possono ritardare il turno cioè scutano i morti i tizi aspetta Riz se finisci quello a terra cosa sta succedendo con i turni penati non lo so toccava ancora Riz ancora me si si ignorato stavo facendo cose da master io ritarderei comunque il turno a dopo Beck mi scopo a fa Beck finisci vai Beck dice porca troia mi sono dimenticato di tirar su Aramil mi torna indietro e gli ficca la pozione dell'eroe in bocca ah beh tecnicamente siete tutti alla stessa iniziativa quindi Aramil potrebbe anche agire buona ok c'è una trasformazione rapida pozione dell'eroe e si è l'unica pozione di salute che ho sei full sia con l'animale che con la tua salute quindi animale 18 si e poi 8 e 3 e 3 di mana no il mana non si è e tra l'altro mi scende un turno di no il mana in teoria l'avevi già recuperato dormendo ok ah si è vero scusami è vero ti serve un movimento per alzarti in piedi però hai già un paio di bersagli in corpo a corpo quindi non c'è problema tecnicamente lui lui e questo tizio bloccato sono tutti in corpo a corpo eh Mastra ti posso chiedere una cortesia quello morto lo puoi levare così non ci confoniamo questo qui grazie del tutto grazie che fatto nel bel mezzo della finisci quello finisci quello a terra si nel bel mezzo del mischione però adesso hai un'abilità apposta per queste situazioni infatti adesso mi diverto basta transformati e finisci ma non tocca a me adesso tocca a te eh l'insa ritardato dopo allora io mi metto a scomazione rapida lock steady ok allora tirami intanto un di 10 più 1 per i turni allora un di 10 più 1 5 turni a sto giro tocca contarle infatti hai metto i pallini scusa mi sto mettendo io e adesso ti metti un altro test magia quindi un di 10 più 1 per vedere se puoi usare metamorfosi rapida si si hai un'azione ti trasformi e puoi già attaccare wow 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 qui dove c'è 10 con la terra quello si dai quindi con un di 10 più 1 attacco eh già basta fai danno no soltanto 2 di 10 no in realtà scusa ma te hai attacca se hai a terra fai soltanto il danno 2 di 6 più 1 2 di 6 più 1 4 perfetto il secondo può ancora parare giusto non è stato ancora attaccato si perché è arrivato lì ed è intervato vai quindi l'attacco è 2 di 10 sull'agilità 2 di 10 non vedo l'ora che quel tizio faccia le schede per i pallini delle best sonne così ti puoi segnare anche wow bel tiro così ti puoi segnare anche le statistiche dell'h2 oddio mio dove è finito tutto il mio culo eh ma perché semplicemente non è perché lui è a terra quindi la terra gli viene difficile parare vado i danni vado Luca si 2 di 6 più 1 praticamente stava cercando di alzarsi per difendersi ed è inzioffato di nuovo wow lo devasti lo devasti è ridotto parecchio male Riz se vuoi puoi agire da eh si sono sempre a corpo a corpo quindi vado di spada quello è in corpo a corpo con me vai l'hai colpito l'hai ucciso no aspetta no non abbastanza non abbastanza danno per ucciderlo ok becca agito tocca a questo qua è bassa? eh lui è già agito ti ha portato l'altra pozione ti ha riportato in vita ah grazie sono ritornato indietro perché me ne ero dimenticato totalmente di nuovo il d10 questo qui ha voglia di far compagnia al demon anzi lo metto qua tecnicamente no dai se può andare in corpo a corpo con due che lo faccio Aramil agito inizia il nuovo giro e tocca a questo povero stronzo tocca ad Arane quello che c'è accanto a Aramil lo finisco io con la spada uguale come vuoi la tua spada fa tanti danni lo finisco in caso ma io con l'arco ok allora spada stregata su questo qua quindi abbiamo detto che sempre attacco con 2 di 10 più 1 roll 2 1 1 più 1 che cazzo niente niente mi spiace e hai anche la tua azione se vuoi ti direi di non consumare troppo male perché è il primo tiro esplorazione questo lo so bene fa niente piuttosto allora avvicinati e attacco allo corpo a corpo ho anche la balestra ho anche attacco con la balestra è vero allora ricarica la balestra 7 per ricaricare dai ricaricata ricordati che non hai più il più 1 in percezione si infatti li sto scrivendo quindi scusate quindi hai 1 di 10 per colpire 1 di 10 e 1 di 8 danni e non colpisco la tua non è una balestra automatica vero? no ok altrimenti si sarebbe inceppata ok niente purtroppo però tocca al demone che torna al massimo della sua salute non a caso questo demone era il boss della vostra primissima avventura non è una creatura con cui si può scherzare ah già la biblioteca si in realtà li avevo distrutto velocissimi si è vero però ho ucciso Dragar con quel demone però ho ucciso Dragar lo dirò per tutta la campagna deve infielire non metto il coltello in una piazza se per caso domani dovesse tornare Dragar se avrete questo demone lo distrugge così il demone si dà di nuovo Dragar esatto cioè se adesso il demone muore prendono acido tutti quelli in corpo a corpo cioè tutti in pratica ben 5 persone è virtualmente impossibile che muoia ogni tanto Dragar farà finta di sbagliare mira quanta d'armatura il demone o 9? 5 5 no con allora comunque artigliata su quello non sto vicino l'asse quello sano tra l'altro la statua dei plati non mi sono reso conto che ha tanta salute quanto un drago di fuoco adulto cazzo quella statua era baratissima dai hai la 50 di salute non riesco a parare cazzo 4 ok bene poi seconda sempre colpa lui sempre artigliata preso stai 5 wow è morto? no morso allora sei preso vai 5 di morso ok a terra gravemente ferito lui è paralizzato tocca a lui che recupera 2 punti salute e tocca a Reeves Reeves vuoi attaccare questo qui? che io attacco quest'alto posso spostarvi manualmente? che comodità non lo sapevo ok scusate momento super quark io non sprecherei le mie mega freccia per questi eh no oddio gli altri però in realtà ancora dura ancora 4 giri sì ma infatti non ho finito allora si tiro a quello vicino a me anzi lo colpito con la che sto facendo sono ancora no non sono più in corpo a capo vabbè ti sparo con la freccia sì tecnicamente se sono svenuti non contano anche perché una volta che sono bloccati in radici da terra non possono parare quindi questi due sono praticamente mega morti chi ha colpito? scusa questo a lui beh lui tecnicamente è un corpo che ha in corpo a corpo non credo che tu possa sparare perché proprio ai tuoi piedi conta come corpo a corpo ok sì quindi tirami il danno della lama ragazzi una domanda se io arrivassi in corpo a corpo con lui vado solo con i danni giusto? sì infatti quello che farò becca vado attacco anch'io questo qua che ho di fianco vi lascio un minuto in caso tirate per il demon e voi se servisse ma abbiamo finito tocca a te ah hai già fatto il danno? scusa tu fai un di 10 di danno no? meno uno però vabbè Luca Luca devi togliere un pallino però devi togliermi ah sì allora Rocksteady si avvicina qui sì un pallino lo tolgo anch'io Rocksteady si avvicina qui e va dire 30 con i danni quindi sono 2 di 6 più 1 per il primo attacco wow secondo attacco sì ma questi sono morti dai non stai neanche a farli sono fermi ancora per 3 turni sì hai ragione non vale neanche però ci sono le frecce e le altre cose quindi devo che condizioni hai messo questo qua Luca? è ridotto molto male ma è ancora vivo ah tocca ad Aranel allora Aranel non utilizzare neanche no vado su no no ma non utilizzo guarda almeno le frecce vado su questo qua con lo stiletto ma sì infatti non possono defendersi ne attaccare arrivo ok 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 qui siamo oh che è successo? sto cercando di spostarla ok ok aspetta la spada stregata però c'è ah è vero è la spada stregata vero? che è un di 10 più 1 2 di 10 di di intelligenza è il danno sì roll 2 1 1 1 5 9 o stregheta va a terra va a terra però è costato a rimanere in piedi per le eratiche ok tocca a lui che recupera due punti ah no toccava il demone ok il demone lo uccide sì il suo danno minimo contro attacchi è 6 quindi questo no ma scusa vai dall'altra parte a questo qua infatti infatti che se noi facciamo meno danno quindi so ok il danno minimo del demone è 6 quindi lo uccide anche questo contro attacchi ok vabbè la tua altica è morta pure l'altro quindi Ries tira 2 di 8 per i suoi danni e lo ammazza yay adesso un altro incontro casuale quindi altre teste di troll questo era soltanto il primo sì qui ce ne sono altre quante adesso altre 5 però scusami Luca curiosità adesso è uscito il 2 se posso uscito l'1 che cazzo sarebbe successo l'1 2 di 10 troll di foresta anziché 2 di 6 chi si assume la responsabilità del prossimo no ma adesso ci sono gli elfi dobbiamo trovare gli elfi oh è vero ah bravo dai non solo botte ma si ruola anche un po' pensavo di iniziare la comunicazione con il gran sacerdote elfo che arrivava lì e diceva io però dopo che hai detto adesso si ruola lì un po' mi sono sentito male no la fratella sì dai non sono solo botte in fine conti adesso arriva il sacerdote e ci picchia anche lui ho ucciso il troll fratelli vediamo se riesco a trovare che cacchio le miniature sì era uno di questi che avevo usato Dio sono sacco quale era quello che mi avevano dato per il vabbè dai guerriero elfo chi se ne frega tanto non credo che li attacchiate quindi fatemi un piacere non attaccatevi perché non ho voglia di attacco gli elfi ok vai tiro iniziativa venga ma aspetta ma gli elfi appena vedo il demone è vero facciamo che gli metti su un mantello così non lo vedo il gran sacerdote si gira si rigira beh vedo che siete disposti a tutto pur di salvare la nostra foresta il che in un certo senso mi rincuora come no l'hai detto l'hai proprio detto non entrare anche tu nel loro circolo di malati di meno questo è totalmente in personaggio questo è totalmente in personaggio siamo sacerdote come vedete siamo riusciti a tornare vivi dall'antica biblioteca come da voi indicato abbiamo trovato uno dei grandi arachnoidi inoltre avete eliminato la bestia? si mi giro vado nel carro prendo il cuore nero il muro ce l'ha anche la testa se vuoi prendo il cuore nero e dico siamo riusciti a recuperare questo voi forse potreste darci indicazioni sul sull'utilizzo non vorrei mai cadesse ma non sbagliate uno dei ranger si avvicina gran sacerdote se posso e sussurra nel suo orecchio dopodiché si allontana in elfico ovviamente parla quindi Reeves non capisce niente tutti gli altri compreso il demone il demone capisce tutte le lingue beh traduce per Reeves il gran sacerdote a noi dice questa è davvero una prova incredibile senza il grande arachnoide gli arachnoidi ci penseranno due volte prima di riappropriarsi dell'antica biblioteca però è possibile che un grande arachnoide torni ma in ogni caso passerà una grande quantità di giorni più che sufficiente per completare la vostra missione per quanto riguarda il cuore il mio ranger mi ha informato che ha un grande valore può essere utilizzato per curare la cancrena rossa che che gli arachnoidi rossi rischiano di infliggervi a proposito vedo che voi siete stati colpiti dall'acido degli arachnoidi neri purtroppo serve il cuore di un grande arachnoide rosso per e il culo ti prego si in pratica in pratica i i rossi curano i neri e i neri curano i rossi quindi tra l'altro se prendo un rosso non lo posso nemmeno portare indietro a loro perché mi servirebbe andare per curarmi che culo serve una parte per curarsi ok puoi dividere il cuore in quattro parti a natram bosco scuro ne servono due quindi in realtà se recuperate un cuore avete esattamente il numero di parti che vi serve per completare la quest secondaria di natram e per curare voi stessi ok però tenetelo caso mai la cancrena rossa vi colpisca aspetta come può essere utilizzato gli elfi sono totalmente immuni alla cancrena rossa perché è una malattia quindi nel caso il vostro umano inizia male mi chiedo come può essere utilizzato per curare il ranger si avvicina e te lo spiega spero vediamo no questa è la raccomanda di tiranno speriamo che non c'è un tiro socialità da fare no ti prego ok credo che sia descritto una cosa di natram credo che basti bollirlo dividerlo in quattro parti e bollirlo ok adesso controllo intanto pensate se volete chiedere qualcos'altro loro tipo dove cazzo andare no vabbè intanto sì mi chiedo anche dove andare basta tagliarlo e bollirlo ok qual è il prossimo luogo dove dobbiamo dirigerci il più vicino all'antica biblioteca è la torre dei candi da rugiada ah ma tanto noi partiamo da questa sì questo nome non mi a tal proposito mette la mano dentro la borsa vedete anche voi la mappa adesso sì sì tira fuori un fazzoletto leva i quattro lembi che lo avvolgono e prende la chiave incredibile si inginocchia la mostra alla sacerdote e gli dice credo che questa sia al sicuro in mano vostra se sei davvero sicura che sia meglio che siamo noi a tenerla allora lo faremo noi la vediamo la chiave tutto giusto sì io mi giro e gli faccio ma che cosa fa quella chiave che non mi ricordo ma dove mica l'hai presa quella chiave gli è data l'asa sì no 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 lo sapeva lui il personaggio lo sapeva l'asa l'ha data Ludwig e Ludwig l'ha data sì avete visto lo scambio delle chiavi però in teoria non ne sappiamo l'effetto no no sapete che le quattro chiavi servono per aprire la la protezione intorno al cuore del sommogrifone esatto perché perché nel caso in cui noi dovessimo morire loro almeno ne hanno già una visto che stiamo svolgendo queste missioni per loro dov'è Magnus perché non è qua a impedire questa stranzata beh in realtà ha senso se moriamo se moriamo dobbiamo tornare a prendere la chiave nel dungeon in cui siamo morti o nel bosco in cui siamo morti rischio di non trovarla più più che altro c'è anche il fatto che magari poi loro ci possono tradire e cercare di uccidere il grifone gli epi sono tutti subdoli state parlando con il gran sacerdote di quella veste sovrana sì no ma infatti lo trovo improbabile esatto ma anche se lo facesse basta aspettare prima di dargli l'ultima chiave esatto perché comunque gliene servono tutte e quattro quindi è attaccare la dolce nel sonno sono sicuro io gli vorrei far vedere ok io gli vorrei fare invece vedere la statuetta infatti questo stavo facendo ok perfetto allora vede questo vecchissimo elfo a momenti sbianca posso? certamente però aspetta essendo anche tu elfo questa statuetta diciamo un tempo di attesa tra una cura e l'altra quindi magari prima di prenderle in mano vuoi utilizzare un attimo quale gli stai facendo vedere quella di Aramil o quella mia? quella che ci curava ce ne sono due sì quella di Aramil allora no non sbianca vede la statuetta dice questa è una statua di Re Unias bellezza del bosco credo dici qualcosa di più dicci cos'è che è? sì è di Re Unias bellezza del bosco il nostro ultimo sovrano quello che abbiamo dovuto spostare in un'altra landa per difenderlo dall'arachnoide tiranno non era regina? non era tipo una regina? la sua discendente è la regina che ci sarebbe insomma lui era re di quando attaccarono gli arachnoidi di quando io ero ancora un elfo normale senza la mia vita aggiuntiva allungata la mia longevità allungata dalla ma non sono immortali gli elfi? no ah no? no non è specificato quanto possono vivere ma quest'elfo è vecchio di millenni infatti all'aspetto di un novantenne che per gli elfi non è normale state parlando effettivamente con un elfo ultramillenario che è una cosa unica perché gli elfi non possono vivere così a lungo di no se combattete questo vecchietto è il più pericoloso del gruppo ha tutte le abilità a proposito di statuette volevo mostrarvi anche questa visto cosa raffigura il materiale di cui è creata comunque appunto vi dice che effettivamente la statua di Unias la potete tenere perché è un oggetto magico però non è niente di particolare non è una cosa per caso ma per caso lei sa come ricaricarla oppure può ricaricarcela non dico perché ne abbiamo bisogno a momenti no no vi attaccate al tram anzi vi attaccate alla carovana e tra l'altro a me mancano dieci giorni per tornare ad utilizzare dieci sì è vero ho diminuito il contattore dopo essere tornato dal bagno è vero ok e e gli mostro la statuetta del sommo grifano adesso sbianca e dice appunto posso sì certo questa statuetta non ha quasi nessun valore per tutti gli altri ma è una sacra icona della nostra bestia sovrana il che mi consente di conferirvi un punto avventura a tutti capite adesso da questa avventura si potevano ricavare quattro punti avventura compreso quello della sopravvivenza ne ha fretta un paio di lui che mi ha salvato dalla morte e mi ha perso in sogno il grande pietra o come si chiama e e mi ha parlato il il grifone o intendi o la bestia di pietra il grifone mi ha parlato quella da verticurato era il grifone però assieme a c'era il leone di pietra si il racconto del sogno del leone di pietra che poi il grifone mi ha parlato e mi ha curato capisce che effettivamente toccando la statuetta probabilmente sei riuscita a entrare in contatto comunque col sommo grifone che ha sentito la tua volontà di voler aiutare il suo popolo in come si dice in distress in difficoltà esatto e che quindi ti ha donato la forza di continuare a lottare però non ha idea di che cosa sia il resto di cui hai parlato anche se quando gli racconti del tuo primo sogno dice non è non è il luogo da cui provieni tu Beck il lago ah sì l'acqua di acqua fronda perché chi è che se l'hai sognato l'acqua di acqua fronda io 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 Aranel 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 non mi avevi detto che avevi Aranel scusa non mi avevi detto che avevi sognato casa mia non sapevo fosse casa tua non aveva visto il non aveva visto l'acero però ti ricordi che quando hai messo l'acqua nella mano hai cercato di succhiarti dentro sì si sa che il lago di acqua fronda è una sorta di portale per un'altra dimensione o qualcosa del genere Stargate o meglio Beck lo sa perché ci vive è buono e abbiamo altre cose da fargli vedere in teoria no gli richiedo la statuetta sì non quella di legno quella di Reunias sì sì quella di legno la lascia a lui chiedo giusto della testa dell'arachnoide nero se sanno se ha qualche valore se si può utilizzare per fare qualcosa anche la testa non si sa è la testa di un essere gigantesco vale tipo 20 fiorini per il per lo sceriffo ma in questione se possono scortarci fino a purtroppo siamo dobbiamo proteggere quel che rimane del nostro popolo siamo occupati a spostarci costantemente non possiamo muoverci in una direzione dove siamo già stati sareste interessati perché nell'antica biblioteca c'era una barca che noi abbiamo dovuto prendere per cercare di combattere gli arachnoidi che abbiamo involontariamente lasciato andare mentre combattevamo con onore e tutto potreste tipo prenderci un'altra barca e sostituircela mettercela lì in modo tale che poi continuiamo l'avventura con una barca dalla grande biblioteca il vecchio fiume sotterraneo è ancora utilizzabile sì credevo che fosse caduto che fosse crollato che non fosse più utilizzabile da eoni non l'abbiamo esplorato tutto però c'era acqua corrente che arrivava e andava da qualche parte di sicuro perché se no avrebbe un lago sotterraneo purtroppo sono passati millenni dall'ultima volta che il mio popolo ha costruito barche non posso aiutarvi in questo senso ma anche una zattera giusto due tronchi magari non direi che posso noi non scusa non siamo soliti oltre all'aiuto che già possiamo darvi quando sono fischietto non c'è molto altro che possiamo fare dovete capire il nostro popolo è davvero sull'orlo dell'estensione anche soltanto rispondere alle vostre chiamate potrebbe essere impossibile se gli arachnoidi ci sono le calcagne se la mettete così però non mi sento più così tanto sicuro lasciarvi le chiavi un consiglio che vi possiamo dare non è che l'antica biblioteca libera cercate di impadronirve fortificarla è vero potreste pensare di tornarci a vivere è abbastanza difendibile alla fine non la parte esterna però la parte sotterranea cioè ci mette una porta all'ingresso una porta giusto prima del fiume che sia posto ho paura che la voglia degli arachnoidi di uccidere il nostro popolo sia più forte della paura di invadere un'antica biblioteca elfica anche senza un grande arachnoide se ci radunassimo tutti lì saremmo soltanto un facile bersaglio per il massacro sono sicuro che però per quanto la loro voglia sia molto interessante non riesco a sconfiggere una porta in metallo o dei sigilli magici o delle papole esatto porte magiche se fate un'altra bella statua in platino li fermate per sempre no vi prego non fatela no quella no quella no tutto ma non quella statua le tecniche di costruzione delle statue magiche sono andate perdute da millenni che sfortuna sono quasi spiaciuti c'è un modo per disattivarle no però se ne trovate una disattivata e la prima cosa che vede è un elfo dovreste potergli dare degli ordini in elfi porca di quella vacca interessante che domanda geniale però se la statua è attiva per proteggere qualcosa seguirà la sua programmazione tuttavia alcune potrebbero rispondere ai comandi se vedranno un elfo e non il vostro compagno umano o peggio il vostro animale domestico mangerò il tuo cervello ragazzi a saperlo prima cioè noi potremmo utilizzare quelle statue per combattere queste due a difesa della biblioteca potrebbero essercene altre perché quelle erano attive ne dovete trovare una spenta ma invece per quanto riguarda le stanze quelle che diciamo si attivano quando entrano gli elfi oppure quando entrano gli umani cioè c'è un modo per impedire a queste statue di attaccare un umano purtroppo no come ho detto è una tecnica che è stata perduta e le statue rispondono ai comandi che gli sono stati impartiti mille anni fa mettiamo per caso che uno utilizza sembianze illusorie su un umano per farlo sembrare un elfo riuscirebbe a ingannare le statue tipo loro vedono con sensori magici o cose del genere sembianze illusorie è una magia mentale gli esseri artificiali sono immuni alle magie mentali quindi non riusciremo a ingannarle no 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 d'accordo quindi resistono anche tipo a sonno magico sono magico stregone distorcente non ha alcun effetto anche maronna quanto su sgrave beh buona sapersi ma per esempio mi ha dato una curiosità stregone distorcente è quello che può far apparire un oggetto di qualsiasi forma no no stregone distorcente è quello che distorce la tua forma la forma dello stregone mentre combatti e tutti quelli che provano a colpirti devono prima fare un test percezione contro la tua magia in pratica è tipo tantissime parate che puoi avere ogni volta che ti attacca si hai infinite parate che vanno su magia è abbastanza ah quella che dico io è sembianza illusoria ma sembianza illusoria può essere usata anche se non mi penso che quello che dici tu era mani dello stregone cioè mani dello stregone cambia l'aspetto di una creatura toccata allo stregone in quella di qualcosa delle stesse dimensioni ma però in quella in qualcosa delle stesse dimensioni o niente allora perché stavendo scusa se io tocco un essere gigantesco lo posso trasformare in un microbo o no e anche se se lo trasformassi in un microbo in realtà rimarrebbe gigantesco anche se potessi trasformarlo ok boh a questo punto ringrazio gli elfi a differenza di quel drago di terra qui avete fatto ingucitare la pozione rimpicciolente che cosa ridicola che è stata è stata geniola è stata geniale bella quella sessione comunque se non c'è altro alla prossima ciao 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 li avete rischi di muoversi come cazzo e ho capito come si faceva mi sono ricordato ok che tasso si fa allora praticamente prendi il tuo personaggio clicchi tieni premuto lo sposti leggermente e poi premi il tasto destro più volte per fargli fare le curve e quando lo molli succede quella cosa allora tieni premuto sul tuo personaggio eh infatti ok tieni premuto aspetta tieni premuto col tasto sinistro poi mentre tieni premuto col tasto sinistro lo sposti leggermente e premi il tasto destro e premi il tasto destro ogni volta che gli vuoi far fare una curva poi quando lo molli dove devi arrivare gli altri vedranno quella cosa tu no ma gli altri la vedranno ecco adesso noi vediamo Reeves e Beck vediamo di tutto ah quindi ma mi avete visto anche prima fare sta cosa anche a me anche a me stai vedendo no no perché tu stai soltanto facendo vedere il percorso devi usare il cursore select a me l'avete visto sì sì ok allora funzionava era semplicemente io che non lo vedevo ok ok figo figo sì sì infatti anche adesso Reeves si è visto fare tutto il percorso e io? no tu sei fermo aspetta come cazzo quindi col cursore quindi il primo la freccia c'è una freccia? sì premo il destro no tieni premuto col sinistro e premi col destro per farlo per scegliere i punti dove spostarlo e poi quando lo molli noi dovremmo muoversi secondo il percorso che hai scelto no non ci sei riuscito vabbè dai cerchiamo di arrivare a campo coschivo secondo tiro vai faccio il tiro esplorazione io vai di 12 speriamo davvero in bene di 12 porca vacca davvero davvero avevamo detto che lo facciamo io dai l'ha fatto lui dai toccava una cosa toccava ah no beh aspettate scusate se toccava a Dara non l'avevo sentito io no ti ha fatto 8 teniamolo almeno per dopo l'8 boom arrivano 8 troll oddio l'8 sarebbe l'alveare di calabroni giganti che è l'8 dei coglioni no mi beccate l'8 troll di foresta come l'alveare di calabroni giganti con quanto bisogna fare beh però dai almeno l'alveare ce l'ha buoni dopo dai no io lo odio odio quell'incontro cerco di farlo almeno possibile infatti quindi ce l'ha buoni cioè non lo faccia neanche facciamo finta di niente andiamo avanti se esci 8 di solito tiro fuori gli arachnopiumati che sono un po' più divertenti o un'altra creatura delle cose ah vanno bene gli arachnopiumati qualcuno mi tira un di 10 per favore non io a questo giro 9 ok sono a 9 metri di distanza io ricordo che potete anche scappare volendo davvero io gli parlo grazie indicami a distanza ok perfetto sono 9 metri possiamo anche affrontare a distanza ragazzi sono 8 quanti sono? beh sono solo 2 in più di prima alla fine sì il problema è che stiamo finendo mana e tutte cose ancora abbiamo altri 4 incontri quindi vuoi dire tipo gli lasciamo qua il demone se ne andiamo e poi ci rifacciamo in seguito dal demone che è tanto veloce il demone non è veloce ah no aveva volare scusate però beh intanto tiriamo di iniziativa aspetta dovete fermo va bene puoi contarlo come iniziativa però dovete farmi il test percezione sì contatelo pure come iniziativa però questi sono gli test se non fate almeno 5 siete colti di sorpresa 11 ecco 10 anche il demone è colto di sorpresa perfetto 11 ok disponetevi come preferite per la battaglia potresti potresti spostare tutti i troll indietro di un metro così avanziamo noi dovete sempre stare in questa zona comunque perché così almeno c'è un po' più di spazio per disporci cioè sposta sia i demoni sia anche noi in teoria ok oh sono riuscito ad iniziare lì grazie iniziativa allora io iniziativa sono messo abbastanza bene ah iniziativa devo tirare sì l'iniziativa ha fatto una è bellissimo almeno il demone ha fatto una allora il problema è che se noi proviamo a scappare dobbiamo fare un tiro agilità contrapposto al loro giusto sì e per quanto sarebbe fattibile scappare per Reeves e Aramil penso che sarebbe un po' più difficile per Aranel e me tu puoi trasformarti in una creatura che è veloce infatti e posso anche trasportare qualcuno e puoi anche trasportare Aranel ad esempio infatti è quello che volevo fare anche io posso trasportare qualcuno no è una caratteristica della trasformazione in cervo inoltre se non sbaglio se è veloce 10 l'altra creatura non ha veloce 10 tu la stabilis in automatico sì inoltre per semplificare la cosa se fallite quelli che vi raggiungono sono soltanto le creature che hanno superato il test le altre si perdono nella foresta o qualcosa del genere quindi che ne dite userei soltanto io un punto mano e basta ok ma aspetta se io provassi a fare il test intanto se non lo supero tu mi trascini cioè trasporti il fatto è che se se lo fate così basta scompare perché è veloce 10 e tu rimani indietro e ti prendono è un rischio ok ok no vabbè però aspetta io mi dovrei trasformare comunque tieni conto di questo quindi devo poi aspettare il turno dopo prima di iniziare a scappare in realtà no ah no posso trasformarmi iniziare a scappare cioè sì credo ok cioè basta che lo dici tecnicamente vabbè se scappassi anche perché ti muovi di 10 metri facciamo allora perché considerate comunque che dobbiamo sempre sperare di tirare l'inizio fino a questi stronzi allora io scalo un attimo dopo Aramil giusto per vedere se lui riesce a scappare se non riesce a scappare neanche lui è un po' un casino quindi testa agilità mi stai chiedendo giusto? no no merda ho cancellato Aramil sì sì comunque scusa due dadi più uno ho cancellato Aramil merda 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 non era non inizia di no no tra la dita però ah ma pensavo gli avessi cancellato proprio tutta la pedina eh sì ho cancellato la pedina ad Aramil è soltanto ci sono e te l'ho rimessa ho cancellato anche il demone però ah io lo vedo eh l'ho appena rimesso ok ok eh mica tanto ok già Aramil hai fatto tre per provare a scappare porca vacca ok e niente avete deciso di scappare quindi fatemi tutti il test di agilità adesso semplicemente ah ma ha già tirato anche Aranel passa tecnicamente non siete in non siete nello scontro se mi dite che volete scappare sì no ma io volevo scappare ma trasformandomi quindi tu ti trasformi Aranel sali su di te potete scappare ah no ho fatto dieci scusami Luca basta che mi lo dici aspetta Luca quindi io stai dicendo che potremmo trasformarmi in animale e scappare no perché tu hai fatto bene a farlo nella tua forma normale perché nella tua forma animale hai meno agilità sarebbe stato peggio basta quando si trasforma a veloci dieci quindi fugge in automatico dove metto dove metto rimani lì basta rimani lì per ora eh sì ma ma penati posso essermi trasformato cosa c'è dimmi mi sono mi sono trasformato io ma mi hai già tolto tu domana no io non ti ho tolto niente qualcuno me l'ha comunque ragazzi scusate io ho fatto dieci al testo agilità per scappare siamo a posto io ho fatto otto il demon è quattro il demon non è scappato io non ho neanche tirato adesso tiro la loro agilità hanno anche terrore allora sì è vero tiro anche la loro coraggio dio mio dio mio sono due ok quindi gli potevano ascoltare che adesso ci pensi quindi c'è uno che ha fatto nove uno che ha fatto nove uno che ha fatto no uno che ha fatto nove uno che ha fatto dieci basta l'altro in agilità ha fatto ok due hanno fatto nove in agilità quindi posso ritentare il testo adesso no quindi adesso ditemi chi di voi nel test agilità per scappare ha fatto nove o meno io ho fatto dieci e il demon ok allora diciamo chi ha fatto dieci o più io ho fatto dieci Aramil Aranella scusa ok Aranella è scappata quindi e Bassa è scappato in automatico quindi ma in realtà volevo aspettarli loro cioè mi sono trasformato ma sto aspettando tanto io non ho paura di loro posso scappare quando cazzo mi pare quindi aspetto che mi salga in groppo a qualcuno e vado no non hai capito stavate scappando ok ah ok va bene allora scappando e dopo numerose cose loro vengono raggiunti da questi affari sì così praticamente quindi voi farete il combattimento contro esattamente due troll le teste che mi mancano per la taglia ah ok ora ho capito come funziona scusa mi trasformo sono perduti nella foresta li avete esaminati ok bene adesso devo soltanto tirare coraggio per questi due troll ok oh molto più facile parto dopo di nuovo parto sì Aranell Aranell e back non ci sono il demone quanto l'aveva fatto in iniziativa il demone oh cazzo l'ha fatto nove il demone l'aveva neanche tirato in iniziativa l'ha tirata sì l'ha fatto nove vero nove uno mi pare io uno e il demone nove master scusami a quanto siamo di distanza noi da loro siete in corpo a corpo no no noi no no voi non ci siete via da qualche parte lontani nella foresta quindi a giocare con i funghi tecnicamente a 60 metri ancora mi piace attaccare sti costi no perché tutto ciò che è oltre 20 metri nella foresta di Antoc non si vede ti ricordo ok ok è vero vero scusami praticamente vi siete dati alla fuga alcuni di voi sono rimasti indietro però non è proprio una fuga controllata siete voi che scappate dalla velocità più assurda possibile perché siete inseguiti da questi così alti due metri e mezzo che cercano di sbranarvi è questo tipo di fuga non è una fuga controllata volevo sapere se li potevo aiutare o se li devo fare i cazzini mi faccio i cazzini se avreste cercato di scappare in un ambiente chiuso tipo una casa allora le cose sarebbero state diverse ma all'esterno è diversa la cosa ok beh non è andata neanche troppo male perché soltanto due sono riusciti a inseguirli grazie a questo errore vai allora assolutamente Aramiel come stai si trasforma in Rocksteady fammi male vado di aspetta com'è che era battaglia sacra no non c'è battaglia sacra no infatti devi tirarmi un d10 più uno per la durata allora un d10 più uno che culo vabbè è quello che ti serve e un d10 più uno per vedere se puoi attaccare subito un d10 più uno perfetto puoi subito agire questa abilità si sta già si sta già rivelando utile due utilizzi allora un d6 no aspetta mi ricordo male cazzo sei danni bello che comunque sei troll sono rimasti paralizzati dal terrore madonna davvero due di sei più uno giusto i danni no devi colpire anche due di dieci per colpire loro non sono in armi in questo caso secondo me è la cosa più sgrava che ci potesse capitare su 10 che tu ho fatto o perché su 10 che tu ho fatto è assoluto devi colpirli come le creature normale con agilità due di dieci per l'attacco perché ho fatto 10 prima cosa era pure era la durata no hai fatto uno più uno per la durata 10 più uno per il test magia che serve per avere la tua abilità metamorica che ti permette di avere un'azione adesso sì non c'era il più uno però con 10 colpisci uno di questi due ok vado di danni quindi due di no non riesci a parare quindi sì due di sei più uno per i danni dimmi su quale dei due quello la via sinistra più vicino ok 2 di sei più uno si danni ok ora vuoi attaccare vuoi attaccare l'altro o sempre lui l'altro dai così no ma se attacchi sempre lui così non può neanche parare e poi comunque dopo almeno se riuscite a uccidere questo dopo vi può attaccare soltanto un orco cioè un orco quindi due di dieci più uno 9 preso 2 di sei più uno per i danni 5 lo mandi a terra tocca al demone il demone si sposta qua attacca questo ancora in piedi artigliata ok riesco a parare altra artigliata armatura lo prendi al pelo lo prendi al pelo perché è tre più uno quattro armatura è quattro l'hai presa tre danni ok e poi il morso lo prendo ok 6 l'ha ridotto parecchio male ok tocca a lui che recupera due punti salute e usa il morso giusto porca misura ok su me o sul demone adesso adesso te lo dico prima devo vedere se usa il morso c'è anche rockstay in durio si si siamo tutti a tre ok si è il morso il morso è letale occhio buttato a terra arami ok 5-6 è il demone poi vado con l'ordine che avete sotto ok arami trova che culo che culo ti manca bastardo pigli buttare ho fatto due tu hai armatura tre quando sei trasformato ma c'ho anche tre in ed a umano si però appunto visto che l'armatura cambia ok ok è spadata no tocca tocca al troll che si sveglia porca puttana poi da due punti salute si alza in piedi ma non può toccare a meno a meno a meno tre quindi adesso non può attaccare quindi lui può attaccare sì farà due artigliate la prima su Reeves ha recuperato quattro punti in un turno perché già prima non aveva recuperato i due no no ha recuperato due punti era zero arame l'ha mandato a zero punti salute ah pensavo a meno due l'ho capito io no ho detto che l'avevi mandato a terra ah perdono ho capito quello io fa otto per colpire Reeves quindi con un'artigliata ah Reeves wow parato perfetto e la seconda artigliata andrà sul demone lo manca ah già perché c'ha cinque il meno ha più armature di tutti i presenti qui adesso tocca a Reeves ok lo pisco questo qua davanti a me tra l'altro Reeves ti ricordo una cosa tu adesso hai schivato dalla canaglia quando hai parato quando hai parato l'attacco potevi spostarti indietro di cinque metri lo faccio adesso e non conta come movimento del tuo turno quindi puoi anche sparare con la balestra lo faccio vai vai che bella abilità ok è stata su questo qua vicino al demone vai preso 11 danni sul serio il massimo questi tizi hanno 11 di salute l'avresti mandato a 2 euro da full vita ok e tocca a dare a me allora io niente penso di finirla se vediamo che la faccio 2 di 10 ecco 9 la forma animale è soltanto 2 di 10 senza il più 1 quindi è un 8 8 non riesco a parare fammi il danno 2 di 6 più 1 dai boom per 4 adesso l'hai mandato a meno 2 adesso c'è un altro colpo però aspetta adesso c'è un altro colpo tira soltanto il danno perché è terra 3 mortoc yes perfetto recuperate le teste avete esattamente 8 teste e vi ricongiungete con i vostri compagni quanti tiri mancano ne abbiamo 14 di test provo io o provi tu back no abbiamo già fatto l'8 in teoria no no non conta se volete tiro io vai fabbri tanti ne mancano ancora 4 questo era soltanto il secondo 7 buono buono ragazzi ho 5 trecce io beh se vuoi ne ho un sacco io non ti preoccupare questo non mi capita quasi mai di usarlo ho già capito ma strettamente questa è la no cazzo è la cavoletta la magica religiosa ok dov'è che è dovrebbe essere qua sotto da qualche parte vediamo dove l'ho messa ma eccolo qua questo non credo di averlo ancora usato ah è buono oh che bello e cos'è questo coso? il crotolo assassino strangolatore non mi ricordo sì il crotolo assassino del manuale base mai visto sentite suonare il suo suonaglio non sembra non sembra intenzionata ad attaccarvi vi avvisa vi avvisa della sua presenza e vi guarda malissimo da 8 metri di distanza ciao anche noi non siamo interessati ci sappiamo facciamo anche il vereno questo sì sì no vabbè facciamo un bel giretto da qua facciamo un bel giretto così e ce ne andiamo bene andate quindi sì perfetto ho tirato 4 su di 4 quindi non era affamato non vi attacca per questo ridico non l'ho mai usato però è bello quando succedono queste cose quarto tiro esplorazione siete a metà strada ah già dovevo dire anche il tempo atmosferico mi sono dimenticato standard credo vado quanti tiri sono 8? 6 allora l'1,2 e il 3 li abbiamo già presi tutti cosa è 3? quanti troll sono a questo giro? non sono troll mantide religiosa? serpente? strisciante? ok credo che per questo mi dobbiate fare tipo un test voi vediamo adesso controllo i tiri in cui non succede niente sono 10, 11 e 12 anche l'otto no l'otto è la cosa di Vespa ah già forse anche il 9 voglio dire ma non credo forse vanno a blocchi di 3 i primi di 3 fa qua la banca in grante 7 che ha fatto prima ho scelto il crota la scelta ok quindi devo tirare con 3 dadi uh bel tiro fatemi tutti un test percezione perché se non lo passate non importa il mio tiro di vicinanza 9 bastardo di Aramil 8 e non lo so Aramil doppio 10 ok nessuno se ne accorge a parte Aramil Aramil tu vedi un'amantide assassina gigantesca mimetizzata a 28 metri di distanza da voi ragazzi scappiamo è specificato che l'amantide attende che voi siete abbastanza vicini per attaccarvi quindi ha il tempo di avvertirmi ma se infatti 28 metri è tipo quindi scappiamo quindi non siete corti di sorpresa però questo affare è veloce perché è gigantesco ma e se invece la colpissimo proprio bersagliandola di frecce no dai non rompiamo il cazzo è veloce 10 vi inseguirà e può raggiungervi perché al doppio la sua velocità ok pensavo che semplicemente restasse nascosto e basta coraggio va bene stagliamola di frecce allora 10 di qualora ricordatevi di non farla urlare anche vero ma attacchiamo con l'iniziativa giusto? cosa vuol dire non farla urlare non sono perso qualcosa perché la nave agli altri se urla una bastarda chiama altra amante così mi pare di non farla urlare bisogna vedere questa qua è a 28 metri quindi fammi vedere si non ci sta qua in teoria oltre i 20 metri non è possibile colpire a distanza a meno che non si tratti di creature gigantesche ok quindi la potete colpire però a copertura perché è oltre i 10 metri la mappa non è abbastanza grande si infatti ok quindi cosa vogliamo fare in realtà cercarla di colpire da più lontano però forse può chiamarli in forzi poi o ora che ci arriviamo è lunga ragazzi mi segnate voi per favore voi sette in iniziativo che mi è scomparso il turn order certo te lo segno appenati aspetta non è che momento c'ha 10 lei è veloce si oh ed è l'ultima da gire che fortuna oddio lei in realtà in un turno fa 20 metri non ci muoviamo quindi si in quattro turni ci arriva 8 aspetta dimenticavo una cosa non passo al testo errore si caga si caga non solo non farà niente a questo giro ma manco al prossimo neanche nel prossimo si ma infatti bombardiamole basta allora si corriamo se scattassimo è il primo da agire guardate ragazzi questa è bloccata per due turni è bravo tutto e lo so ma è veloce lei comunque non puoi scappare da bersagli ma anche se è bloccata si per due turni sono pochi cioè vista questa cosa tipo le concederei un tiro ma quest'affare è molto agile si infatti cioè allora secondo me lo abbiamo battuto anche nella grotta non mi pareva avesse così tanta vita no infatti cioè al massimo ne ha 20 ma cioè con 20 di vita con tutti noi che la bersagliamo da lontano in due turni il fatto è che avrà 5 di armatura adesso hai tirato per colpire con la freccia no però no vai quindi vado anche al tiro per colpire eh certo è a distanza con anche la copertura però poi quando è 8 metri da noi quindi in teoria cioè in teoria lei adesso è bloccata poi si avvicina di 20 metri hai danni quindi è 1 di 6 lo scoprirai è bassa lo scoprirai no intendo dire in realtà abbiamo 3 turni per attaccarla perché lei il terzo turno sarà l'ultima ad agire quindi aspetta c'è anche più uno io no in realtà hai più due perché spezzare e tiri due dadi per il danno quindi tira un altro di 6 ok perfetto quindi hai fatto 5 più 2 7 danni niente male niente male davvero un attimo che non ho segnato i suoi punteggi quindi mancano 13 ce l'ha da voler meno 7 sì più o meno secondo me aveva vendita 7 la becco è gigantesca quindi anche con la copertura sì ritiro uno dei due devo farmi la macro per supposo niente faccio solo 4 danni beh è qualcosa il demone si muove un po' avanti ok ricordo che è 28 metri quindi in realtà è più lontano di quel che sembra ara nel ara spalla stregata la raggiungono perché è 60 metri ma non c'è neanche bisogno di farla secondo me guarda che sprechimana forse c'è bisogno di damage eh infatti cioè con la spalla faccio con la spalla faccio un D10 con la palestra se vuoi puoi aspettare che attacchi Reeves e vi dico un po' quante ferite vi sembra che abbia subito vai questo Reeves non prenderà nulla cioè ci abbiamo ancora altri due turni d'attacchi poi eh 8 ok vedete che l'avete ridotta abbastanza male allora dai provo a ricaricare la palestra e ricarico tiro per condire che cos'è su percezione percezione quindi se 4 è gigantesca no aspetta realmente avevo tirato magia quindi non c'entra niente no ma hai fatto un tipo di percezione giusto tu su percezione hai saltato un D10 quindi hai tirato giusto ok non sapevo che cacchio ovvero modo va bene dai purtroppo il tuo quadrello si conficca in un tronco ok lei adesso non può neanche chiamare aiuto perché è terrorizzata tocca ad Armin ancora vado di si perché l'urlo stridulo conta come azione cazzo no ma infatti la stiamo pulizzando tantissimo la stiamo pulizzando tantissimo allora 2 di 6 così 2 di 2 Armin praticamente con 11 va guardate quella stronza benvenuta nel ghetto puttana questo è il ghetto elfico wow e continua a pulizzarla no no credo ho perso il conto credo che abbia pochissima salute bec toccata io qui mi ho fatto i 7 adesso sono 9 9 per colpire riprese 5 di danno va a terra demone sta fermo non si può rigenerare non si rigenera la battaglia è finita ah è morto eh sì potete recuperare la testa che è sempre di una creatura gigante giusto sì il mulo poverino non ce la fa più no infatti sono messo un po' male con le 3 ci sono 4 siete tutti messi un po' male con le 3 io ne ho ancora 11 di frecce oh vi vorrei dire che siete stati si ma non usano tipo i quadrelli siete stati un po' tutti stupidi perché gli elfi ci danno rifornimento gli avreste potuti di avere i quadrelli ma volete che li chiamo? faccio un attimo un fischio col col fischietto di legno rosso se volete vabbè ragazzi io ne ho un botto anche se in realtà comunque io ne ho un botto io ne ho qualcuno se non ne dà giusto 4 provate a fischiarlo così almeno sapete come funziona ok io comunque ne ho 17 a portata di mano e altre 10 nello zen io ho 4 quadrelli e basta io fischio giusto per sicurezza dai vediamo cosa funziona in caso ci serve in futuro almeno vediamo ok allora se non sbaglio com'è che funziona tenete questo fischietto ok quindi allora fate un fischio con un fischio se volete cibo, acqua e frecce ok un fischio breve quindi 6 perfetto vacca ok 16 per 5 meno male che ho quella calcolatrice accanto 80 non riesco ad accelerarla oh calcolatrice non mi muoio tecnicamente 80 eh immagino però non mi ha calcolatrice a quanto fa è andata stronza come non si abbandona la mia monitor vabbè è un stacola del computer casomai ok rimanete qui ad aspettare rimanete qui ad aspettare o continuate a muoverli muoviamoci ah si ah quindi ci hanno dato le frecce giusto? no ah ok 16 per 5 sono i minuti che dovete aspettare 80 minuti sì ah vabbè intanto spostiamoci allora ragazzi mancano due tiri sì e ce la facciano 4 frecce sono 50 danni io 12 vabbè Reeves a te le posso io 10 ti do le 10 di riserva che ho nello zaino oh ok ci do le 10 quadrelli riprendo allora ti vuole fare le frecce mi posso dare io ho le frecce qualcuno mi presta qualcosa faccio io le frecce sì ma te ne presto 4 io ti basta no? sì ma i Reeves 4 ma sapete che ho appena pensato avresti potuto usare fortuna no fortuna prima di chiudere la sessione fortuna la uso per rifarmi il mio incantesimo beh 8 frecce ti basta ok allora il risultato 4 l'avete appena fatto quindi io sono un master che non ci ha sbatta e non succede niente sì cavolo abbiamo fatto tutti i numeri comunque 1,2,3,4 tutti i più brutti 3,4 è sempre l'amante di assassina e non ci ha sbatto e manca l'ultimo ultimo tiro sì faccio io? immagino che io mi avevo tirato ma non me l'ha preso fischi di nuovo fischietto il tizio dice oh si sono spostati e inizia a rincorrervi facciamo anche senza ormai 12 oh cadiamo in un dungeon no dimmi che è una cosa buona visto che come al solito visto che questa è una cosa che avevo introdotto io trovate delle buche di bulboragni ma sono quelli che avevate già preso ad annata quindi non ci sono da mangiare va benissimo quindi abbiamo finito abbiamo fatto tutti i tiri e 10 minuti dopo quando siete praticamente arrivati a campo interno arrivano gli elfi vi ho portato il cibo e le frecce e i quadrelli e tutto quanto grazie mi avete fatto un po' faticare comunque mi immagino si dice ci guardiamo oh ma dove cazzo sono si sono spostati almeno adesso sappiamo che la prossima volta dovremmo aspettare un pochettino qui specifica frecce quindi non porta quadrelli perché gli elfi non usano balestre posso andare a pieno di frecce? no 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 non puoi perché è specificato che ha con sé sei razioni quindi potete dividerle tra di voi a me ne basta una a me ne prendo anche due io se volete quindi Aramil può segnarsene altre due di razioni e poi c'è anche l'acqua Aramil sì però non ve la dà bere da una borraccia Aramil quante razioni hai adesso? sono a a pronto mi senti? no quanto? sì ora ti sentiamo non ti abbiamo sentito quando hai detto quante razioni perfetto poi porta con sé 19 frecce quindi credo che le vostre faretre dovrebbero essere sì le fulla completamente in pratica anche io quindi le fullo? solo chi usa l'arco io 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 quindi sì sì no entrambi le aspetta back quante frecce hai tu senza contare queste? io ne avevo sette tu Aramil? otto eh mi sa che non vi fullano no non ci riusciamo a fullare uno di voi chi di voi ne ha di più ne prende nove chi ne ha di meno ne prende dieci ok va bene otto ok perfetto arrivate entrambi a diciassette esatto esatto sì sì e inoltre ha con sé forse un d4 meno due bulboragne buono ne prendo due prendete voi scrivete voi se curano prendete lì i tank sì cura cura un d4 e ti permette di non dover mangiare tra l'altro lo posso prendere è se tu il tank sì ah aspetta è vero io sono diventato un tank adesso con la trasformazione orso sì ma tecnicamente aramille full di tutto ah già sì ma non prendetevi adesso mettetevi in tasca no ma infatti teniamoli da parte siamo arrivati ormai possono servire come se fossero opzioni rosse i bulboragni principalmente sfamano e dissetano poi hanno anche la cosa che ti fanno recuperare un d4 di salute io saluto il demone io non so valutarlo che è un d4 lo recuperiscono il demone scompare praticamente subito prima che arrivate ma scompare si dissolve o se sfugge via camminando scompare in un luogo di fumo ma io tanto per sapere un po' cioè posso sapere un po' si è teletrasparato nel mondo o è tornato nel posto dei demone fa minuto di test intelligenza allora rives quindi becca tu l'hai preso i bulagni tu? io uno lo so posso provare a farne uno probabilmente svanito nel nulla e non tornerà mai più mi fa piacere il prossimo lo capirò probabilmente non posso provare a farne anche un testo intelligenza puoi farlo anche te visto che ti interessi di demone però la difficoltà è un po' più alta scusa Aramil ma quando parli ti si sente un po' lontano no non ne hai idea neanche te comunque io la saluterai prima che se ne vada lo ringrazio no dicevo l'altro bulboragno chi si è preso i bulboragni in sostanza io ho detto che se non serviva il secondo me lo prendevo io ma se volete non lo voglio ma credo che serva di più Aramil e anche secondo me forse ad Aramil segnatelo tu Aramil una piccola pozione ok beh visto che poi comunque il mazo ce li bisogna cambiare durante la partita visto che in qualche modo è fatto in fretta possiamo anche concludere qui la sessione visto che sono è mezzanotte passata però da poco no assolutamente no come no vado a comprarmi le pietre a mercato non c'è il mercato siete a campo interno non c'è al caputana trovi beh però abbiamo detto aspetta abbiamo detto che domani l'indomani quindi ok allora possiamo partire con Ranger no? pagatemi un fiorino a testa per dormire la notte ok fatemi un test coraggio per vedere se riuscite a dormire nonostante russare i boscaioli ok qui un test coraggio tranquilli consumatemi tutti una razione di cibo no mangio e la pago ah ok perfetto ho un risoratore anche io quindi Aramil non ha passato il test coraggio Aramil tu hai il pregio in coraggio puoi ritirare l'uno ritira un altro di 10 neanche Aramil passa il test ok Aramil in realtà riesce a passarlo Aramil l'ha passato scusami Aramil l'ha fatto 8 stavo tirando il d4 per scusa quindi tutti avete passato il test coraggio bene allora tutti potete tirare per il sono restauratore quindi un d4 di salute e un d4 di mano ok io vado full di tutto se me lo segnate voi perché io non vedo la mia scheda c'è il mio bg hai ragione io ho già full io io sono a 10 scusate modificateli pure non li ho spostati allora io vado a full di salute mano però non con il bestia io ho già full barra te ne ho messe c'è più di 3 barre ok no no assolutamente massimo è 3 giusto Luca? il drago sale di 3 punti ok quindi sale a 12 faccio io grazie Aramil ad esempio usa la terza barra non per l'armatura ma per la salute dell'animale però Beck non può farlo perché lui si può trasformare in due animali però tanto infatti il cervo se me lo segnate non sale a 7 punti non ce l'ho un modello per il cervo allora niente ecco bene siete messi abbastanza bene il mio è rifullato di tutto ok il giorno dopo ho detto niente sogno nella notte no niente sogno basta tirare guardate tutta la mappa la vedete la mappa si ok ritorno a campo boschivo oh a campo interno io devo andare alla tomba di è a campo boschivo è tutto a campo boschivo poi voi siete particolarmente interessati al fatto che vendiamo la roba oppure tipo la posso fare io con penati off screen puoi farla off screen l'unica cosa che faccio tutto per 4 non vi preoccupate comunque dopo vi scrivo sul gruppo anzi se volete qualcosa in più o robe del genere spendi 40 fiorini per le pietre l'armatura intesa ok ah giusto basta tu entri nella cosa dei mercanti adesso esatto pagami 100 milioni si ma quello in teoria lo facevo tutto off screen in teoria quando dopo ci si stessi perché Reeves vuole comprare 40 fiorini in pietre per poter evocare un altro demon ok io come lo potrei aiutare tu vuoi procurare le pietre ah ok va bene si ok quindi togliti subito 100 fiorini saltiamo è che non ne ho 100 ne ho 94 ok vabbè ce li metto io gli altri sono arrivato a 5 fiorini nel momento però hai già contato per le pietre quindi io ho 90 fiorini quindi Beck tu adesso sei a zero ma hai la tessera scelta il lante plastificata della della gilda dei mercanti è un tatuaggio perché Reeves non l'ha ancora utilizzata fortuna giusto? no poi l'ho usato per evocare questo demon Luca invece io quando è che posso entrare nella gilda Luca? quindi ti crei un ovetto portate la la mappa al coso a a Bernie e visto che questo è un mega dungeon secondo me vale abbastanza quindi vediamo un po' Bernie vi farà delle domande ovviamente dove si trovava la chiave la chiave magica dentro la statuetta all'interno della faccia della statuetta a forma di elfa danzante sì quella nella stanza numero 3 al secondo piano della biblioteca a cosa servivano le piante rampicanti morte nella biblioteca? erano delle luci che si attivano quando passano gli elfi ok che cos'era la stanza dove avete trovato la statuetta del re? aspetta è lungo il magazzino era la stanza numero 5 era la stanza 6 sì era un magazzino tecnicamente un magazzino sì ok sì quello con gli inchiostri calamai delle vergomene quante scale c'erano da cui potevate cadere per farvi male allora c'erano quelle che davano sulla stanza 3 ho già risposto giusto perfetto 3 perché le ho cadute sono cadute in tutte e 3 da quanti posti era la barca formeggiata al molo noi ci siamo saliti in 3 ora non sappiamo quanti posti erano eh ragazzi non l'abbiamo mai controllato in effetti era molto grande sì infatti guardando l'immagine sarà stata almeno da 6 posti secondo me ok vabbè non è molto importante tu giovine puoi entrare sti cazzi sono il vecchio Bernie decido io io sono più potente degli dei ok quindi adesso al prossimo avanzamento ai prossimi quando arrivi a 15 punti avventura Aramil puoi prendere anche un'abilità della gilda dei cercatori di tesori wow beh aspetta non mi fai liberare adesso adesso ho 12 eh sì devi raggiungere comunque 15 sei entrato ma a 15 puoi prendere no ma forse non ha fatto il livello quando abbiamo fatto i punti eh no ma ha preso ha preso l'abilità per trasformazione ah sì l'ha preso no niente che è comunque utile a merda l'abbiamo visto quanto è utile l'abilità è incredibile molto bene quindi Aramil adesso è ufficialmente nella gilda dei mercanti credo che bisogna anche pagare qualcosa per entrare devo fare un tatuaggio quindi mi pare sì ti tatuano qualcosa e poi parliamo di soldi cose che volete fare io pozione una salute e una mana sicuro le pozioni bisogna vedere se il tizio ce le ha vediamo le pozioni possiamo farle a messaggio no perché questo tizio ha le stesse pozioni per tutti quindi vediamo immagino che non abbia un colpetto di cuoio o la natura vediamo dimmi che armatura cerchi cercare una buona esatto una buona la cosa è la cotta di maglia quanti soldi hai prima perché in base al budget magari possiamo vedere un attimo beh infatti bisogna fare i conti con i soldi che abbiamo preso in dungeon e come non detto qui c'è scritto che hanno un esemplare di ogni tipo di armatura ecco nessun problema quindi anche di ogni taglia fantastico quindi poi facciamo i conti e prendiamo quella più costosa esatto e quanto venerebbe di armatura la più costosa ti da più 6 quindi ti porterebbe a 8 più il tuo scudo 9 9 ma non quando ti trasformi però costerebbe 600 fiorini inoltre ti costerebbe 2 di trasformarti anziché uno solo sicuramente quella non possiamo permettergela però poi c'è quella più intermedia infatti l'intermedia più è soltanto un'armatura che gli dà più 3 più 3 sì sì quella è contento di più 3 o 4 però appunto occhio perché così si potrà trasformare soltanto una volta in pratica perché prenderemo le pozioni di mano in caso adesso vediamo magari gli possiamo dare anche una delle maschere di malasogno se la troviamo ancora comunque Natram dice guardate a sto giro mi arriva soltanto una pozione di salute e di mano invece non ha niente ho solo una pozione e pergamene invece di salute guarigione sacra ho una pergamena di guarigione sacra una pergamena di stagione distorcente e una pergamena di fulmine e una pergamena di vediamo luce purificatrice così allora io una pergamena di fulmine la prenderei più volentieri io le prenderei tutte in realtà però non hai più soldi cazzo è vero metto i miei se volete abbiamo qui nel dungeon da usare poi te li do mi fai credito allora facciamolo subito questa cosa di soldi ok ma perché ci mettiamo un po' penati guardate c'è davvero parecchio però tutti voi avete roba da vendere quindi va bene va bene abbiamo 150 fiorini per l'oro e l'argento e 150 per il platino si me li sto segnando io il platino il platino ce l'ha l'asa quindi non il platino non ce l'ha gli opali quanto costano? gli opali due opali ah è vero mi ero dimenticato di quegli opali dalle statue di legno opali opali vediamo erano tipo subito no? si 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 può avere coppidash controlli possibili da un fuoco distrutto no dov'è non mi ricordo dove erano gli opali merda ok mentre li stai cercando intanto sto compilando il resto le teste di troll erano 10 fiorini a testa giusto? aspetta il fatto è che se devo controllare devo girare le pagine basta ok ok non ti preoccupare ok allora le teste di troll erano 10 fiorini quindi diventano 140 fiorini più 60 extra perché gli abbiamo portato 20 più 60 totale 200 quindi si quante teste di creature gigantesche avete? ne abbiamo soltanto 2 quindi sono 40 mica avete lo stritolatore strisciante l'arachnoide nero e la megamantide quindi sono 3 teste 90 fiorini in totale come 3? qual è la terza scusate? stritolatore ah ma quindi la vendiamo quella dell'arachnoide nero? si ok ok io sto facendo il conto intanto 2 teste di arachnoidi valgono 10 fiorini in totale perché valgono 5 l'1 anche se sono arachnoide neri non hanno idea della differenza sti stronze ok e credo che per le taglie avete fatto parecchio lo sceriffo è tipo me coglioni bravi cazzo non è che volete entrare nei cacciatori di taglie no? quindi in teoria adesso ci mancano i due opali i tre pelli di serpente trisciante il volume da collezionista le tre pelli valgono 150 fiorini in totale perfetto dai un messaggio tipo a 600 700 siamo già a 570 fiorini il volume da collezionista purtroppo non puoi venderlo qui perché non c'è infatti immaginavo lo venderò poi io se rimani dopo gli altri ti faccio fare un mini colloquio con il maestro che probabilmente te lo acquisterebbe perché lui ha molto l'area da collezionista al maestro dei mercati in questo posto per far prima ma just for curiosity ma ora l'argento dell'estate non erano 150 150 erano 100 per l'oro e 50 per l'argento ok ok e 150 per il platino che non ci abbiamo perché c'è la NASA nei 150 per le pelli ve l'ho detto c'è qualcos'altro io pali scusa non mi sono segnato eh non li ho ancora trovati intanto c'è qualcos'altro eh no il cuore di arachnoide nero penso che lo vogliano tenere quindi questa è l'ultima cosa da vendere a meno che non c'era un bonus tipo simile a quello delle teste di troll quindi un tot che porti di teste di troll oppure di arachnoidi ma non penso di essere arrivato però con il fatto che avete ucciso 20 troll avete diminuito la pericolosità dei troll in questi dintorni quindi è più sicuro dormire all'esterno delle mura non che abbiate voglia di farlo ah ci abbiamo quella famosa pergamena della maledizione eh sì avete quella però mi sa che è meglio non venderla no ma non la vendo che può one shotare un boss spoiler e beh magari era già morto poi non lo so se ragazzi avete altra roba e secondo voi vi darebbe una cosa che può essere usata soltanto per un tizio che è già morto c'è un trollaggio quanto troll sarebbe era quello sul contile se avete roba negli inventari che dobbiamo svuotare robe del genere no no anche se non penso perché mi sa di aver segnato tutto sul carro del gli opali non riesco a trovarli dove cazzo erano io non mi ricordo neanche da dove li abbiamo presi gli opali credo dalle saluette erano di sicuro dentro il dungeon perché io li ho segnati dopo le teste di arcnoide era un era un cosa dopo le teste di arcnoide le ho segnate sì però prima di un bel po' di oro e d'argento quindi era tra la stanza 9 ok allora era alla fine nella 12 o nella 14 cioè nella 13 o nella 14 sì eccole qua 20 fiorini ciascuno quindi sono 40 perfetto io li cercavo all'inizio abbiamo 610 fiorini che diviso per 4 sono 2 persone si prendono 152 mentre altre 2 persone si prendono 153 io prendo 152 senza problemi anche io prendo 152 ok perfetto vado a 244 fiorini mica male adesso l'armi quanto a te stas guardi sono perso 153 a te armi tu ti becchi 153 fiorini ok allora a 300 se facciamo una colletta per far arrivare a 300 a ramilla aspetta io mi vorrei prendere la pergamena di fulmine se non è un problema ah sì compriamo le pergamene ok le pergamene sono 20 fiorini l'una posso prendere la pozione ragazzi prendi fulmine prendi fulmine 20 fiorini anche per la pozione rossa ok vado a 224 in totale 222 fiorini oltre a fulmine c'era sembianze distorcenti non interessa nessuno non sembianze distorcenti di stregone distorcente no se c'era stata la pergamena di velocità già me l'ero comprata non particolarmente perché stregone distorcente andava su intelligenza giusto o era sempre magia stregone distorcente ha la durata su intelligenza ma le parate sono su magia il test da fare è su magia quindi è comunque potente per chiunque possa usare magia sì dai la compro io allora ah cazzo che buona acqua dopo aver parlato tanto le altre erano luce purificatrice e guarigione non mi ricordo cosa faccio luce purificatrice luce purificatrice benedici una fonte di luce che ah no ciao mi ricordo contro gli arachnoidi sarebbe stato utilissimo perché tutto quello che è in quella luce riceve un dot un danno ogni turno e quelli che hanno visione nell'oscurità due danni ogni turno quindi no tutti quelli che hanno visione nell'oscurità prendono un danno i non morti ne prendono due inventivo ho sbagliato completamente me la ricordavo male allora fa cagare no è comunque utile con gli arachnoidi se il tizio con la torcia si butta in mezzo a un gruppo di dieci arachnoidi tipo ma è un punto nana per pochi danni sì infatti beh fosse gratis il demo è la testa adesso adesso prendo un punto avventura per aver finito la sessione e prendo questa skill no scherzo non puoi giusto non puoi davvero fare questa cosa e in più riaposto come puoi e ho 19 punti avventura adesso ne prendo un altro per la fine sessione oh cazzo è vero eri a 16 dio mio sei un mostro no ho avuto semplicemente coincidenza con i punti però no ero più interessato a prendere guarigione sacra guardigione sacra ci serve prendiamo infatti ok ma intendi la pergamela o vuoi prendere l'abilità no no la pergamela la pergamela ok credo che Bassa intenda che vuole prendere l'abilità chi vuole prendere vuole l'abilità io anche quella serve l'abilità guarigione sacra però se qualcuno vuole prendersi una cura in più extra per sicurezza prendetela pure beh la prendo io allora ok altri 20 fiorini ok perché alla fine se svengo io poi qualcuno da curare ci vorrà allora Bassa per farlo molto in breve comunque tu parli con Mestro clan gillis lui dice è strano che un elfo come te voglia entrare nella nostra gilla soprattutto considerando il fatto che tu sia un sacerdote e più che altro era il fatto che ho guadagnato abbastanza denaro durante questa missione e pensavo di reinvestirlo per missioni future diciamo sotto questo punto di vista però non sono particolarmente interessato all'acquisto e lo scambio di merci per guadagnarci bene come un mercante guadagnarci soldi come un mercante diciamo sono comunque un avventuriero sacerdote quindi mi serviva un posto sicuro dove investire i miei soldi ho pensato perché non andare da quei dolci e cari mercanti con cui fare affari ok fammi un test socialità in cui non hai il più uno perché sei nella gilla dei mercanti ok quindi in cui non ho il meno uno si non hai il meno uno scusa intendevo quello tre ok vabbè e poi tipo e ad esempio ho trovato questo libro e lui ti dice shut up and take my money e prendi altri 300 fiorini per il librone mio dio sti cazzi non me lo ricordavo adesso ho ufficialmente venduto tutto quello che c'era nel dungeon dico i 300 dalle 150 subito alla Aramel che si compra l'armatura di sì in realtà volevo Aramel c'ha già lo scudo anche buono sì allora vai prendi le 150 che ti prendi subito l'armatura tutti i nostri soldi magari può prendere anche la 600 in totale adesso sono chiamato lui sono 300 no ragazzi Aramel era 0 no no ma infatti ma poi il fatto è che prendere un'armatura rumorosa è un po' un problema perché quando dobbiamo fare poi sono tutte rumorose a parte quella di poi sono tutte rumorose sì guarda quanti soldi avete voi io adesso arrivo ai 400 allora smettiamo i tuoi 300 però se ne ho legato ai 150 per l'armatura quindi 2,50 va bene la mettiamo se la possiamo permettere l'armatura lasciamoci ancora 150 monete o di più siamo proprio pieni secondo me ve la potete permettere vi restano senza nessun problema scusate Aramel quanti soldi hai 372 quindi gli dobbiamo dare 100 fierini ciascuno scusa già 150 glieli metto io lui li ha già contati quelli che gli hai dato ok ah ok minchia allora dobbiamo dargliene un po' di più 100 fierini ciascuno l'armatura 32 228 fiorini diviso 3 io ne posso dare altri 130 mi tengo a 5 fierini e basta per sicurezza ragazzi posso costa 600 fierini ok gli dobbiamo dare 76 fierini ciascuno arriva a 600 precisi bene 76 ciascuno ok mi fido dei quotidi balestrieri ricordatevi che dovete comprare i quadrilli già comprato io ci quindi passo da 400 fierini a 180 io arrivo a 243 quindi gli avete dato i soldi giusti si 600 giusti Aramel adesso hai esattamente 600 fierini per comprarti l'armatura di piastre la più forte del gioco quindi vado a zero questi fierini giusto ok si ok gli metti oggetti indossati armatura di piastre Aramel tra l'altro Aramel proprio in gioco ti dice dopo questo esoso prestito sai che il tuo compito sarà proteggere noi assolutamente questo è un investimento questo vuol dire che sarai sempre sempre in prima linea in qualsiasi momento assolutamente e se vi ringrazio tantissimo ve lo prometto sei una lattina enorme un muro incredibilmente resistente quindi armatura in piastre quanto mi dà di adesso armatura? più 6 9-9 vai a 9 no l'animale rimane a 3 praticamente a 2 livelli anche lui sì no infatti adesso quasi ti conviene non trasformarti nemmeno esatto l'unico modo che hanno per prenderti è fare 10 o 11 anche 9 10 o 11 vabbè sono basse probabilità quindi sì cioè giusto giusto tieniti da parte la trasformazione in animale in caso proprio non hai poca vita o cose del genere e per arrivare a 10 cosa ti serve? cosa scusa? non si può non si può puoi arrivare a 10 puoi arrivare a 10 con magnus puoi arrivare a 10 con battaglia tata esatto se c'è qualcuno che ha armatura splendente bastione roccioso o se hai copertura o altre cose che ti danno un punto armatura extra che comunque sono molto rare con magnus in squadra si può arrivare a 10 ma non esiste poi questo oggetto che aumenta le caratteristiche? no però c'è un oggetto che ti diminuisce un danno subito ogni volta che ti attaccano come la skill del guerriero quindi in teoria sei sia quell'oggetto sia la skill del guerriero quando ti attaccano ti diminuisce di due danni ogni volta che ti vieni con l'unità io volevo questo oggetto che mi aumentasse magia o intelligenza ci sono le bacchette magiche? ci sono talismani bacchette però sono cose radissime appunto che io posso ad esempio cazzo il mantello era fighissimo il problema è che l'ha trovato la ladra e non Aran assolutamente il discorso è che Aran è l'unica che non ha mai trovato un cazzo fino ad oggi allora con l'agilità dei mercanti in teoria io ti posso procurare tutte queste cose qui però dobbiamo andare fino a città del porto ok e vabbè quindi in teoria alla fine di tutto forse potremmo fare io vado sulla tomba di draga a portare la balestra ok fammi un test di percezione perché ti chiedo di fare il test percezione rieschi di fallirlo poi ho fatto 5 vabbè è abbastanza ti rendi conto che la terra è stata smossa di recente ma smossa è tipo che la tomba è aperta o che tipo che qualcuno ha aperto la tomba sì magari la caccia di ciordale lì in giro per lo meno ti sembra che è stata aperta dall'interno la tomba eh non posso abilirlo beh può fare un test intelligenza infatti già te lo sto scrivendo 1 2 10 7 no sembra che qualcuno abbia scavato e abbia rimesso la terra a posto oh mio dio ok mi sono ricordato io sarei talmente tanto cringe che scavere nella terra per vedere se la tomba è quella ok puoi farlo sì perché vorrei provare a metterli io questi sogni ci ho iniziato a avere quando avevo la maschera del malasogno che ho sognato il dragar quindi vorrei provare a metterli la maschera del malasogno ok inizia a scavare esce fuori il sacerdote umano dal piccolo tempio della luce dice ehi tu come osi disturbare il sonno dei morti dannati elfi lo sapevo non esistono altre persone buone oltre i sacerdoti della luce poi arriva lo sceriffo e dice smettila di lamentarti signorina che cosa sta facendo in quel momento però hai effettivamente svuotato la tomba e non c'è assolutamente niente a parte un foglio prendo il foglio e lo leggo sono andato a fare una passeggiata non tornerò più haha firmato L firmato L Ludwig proverai a vicinermi al sacerdote per chiedergli dove è finito il corpo che c'era dentro con la tomba sì ma infatti anche lo sceriffo dice beh questo è un bel problema e concludiamo qui la sessione meno che non vogliate fare altro no sti cazzi la balestra me la tengo a sto punto non c'è nessuno a cui restituirla no vabbè poi torno da voi e vi dico il corpo di draga è scomparso bel finale prendete tutti un punto avventura per essere sopravvissuti questa sì che sarà una bella sessione tra l'altro stavo pensando adesso che Aramil è tipo immortale e io lo posso addirittura curare durante la battaglia è un bel avanzamento adesso siete inarrestabili superare la biblioteca è stata dura però no 13 punti è ben curato sono inarrestabili se riusciamo a stare ben coperti i Rebs e ma anche il Daimura quindi tecnicamente io sono sempre nella merda prenderei un'armatura anch'io ma poi devo spendere il doppio dei punti mana eh infatti per noi non ci conviene Aranel a me dal token risultava che avessi ancora l'armatura base ma tu hai tipo uno scudo buono adesso sì ah ok allora infatti ho tre di armatura allora modifico il tuo token bene abbiamo finito possiamo andarcene ok ok Ciao